Allora, buonasera a tutti, saluto tutti i colleghi collegati, porto i saluti anche del Presidente Antonino Galletti. Diamo inizio a questo convegno che riguarda la riforma dei reati contro il patrimonio culturale. È una seconda parte rispetto a un convegno che abbiamo fatto qualche settimana fa, dove abbiamo trattato anche l'aspetto amministrativo più nel dettaglio. Questa volta tratteremo anche l'aspetto penale molto più nel dettaglio. Quindi do subito la parola al Dottor Natalini, che già aveva relazionato una parte nel convegno scorso, e che ci illustrerà la tutela penale del patrimonio culturale, lineamenti politico-criminale, profili di tutela e spunti problematici. Prego, Dottor Natalini. Grazie, grazie dell'invito. Vi ringrazio per quest'ulteriore occasione di approfondimento su questa legge, della quale si sta cominciando un po' a parlare in questi mesi. che è una legge di rilevante impatto per quanto riguarda la materia penale. Ha completamente riformato la disciplina penalistica con un nuovo assetto che proviamo a tratteggiare per sommi capi. Mi è stato detto che ho qualche minuto in più, quindi andiamo molto lentamente, cercando di dare le linee direttrici di questa riforma. e poi magari nella seconda parte vediamo quali sono le ombre, oltre alle luci, se ve ne sono di questa nuova disciplina. Cominciamo col dire che la legge 9 marzo 22 del 2022 recepisce una serie di disegni di legge che si erano affastellati nelle ultime legislature, almeno tre o quattro, per tre o quattro legislature si era tentato di riformare la materia, la materia della tutela penale dei beni culturali, che secondo la dottrina, quella poca dottrina che si è occupato del settore, perché è un microsettore questo, anche se poi il tema del patrimonio culturale per il nostro paese è fondamentale, però a livello penalistico è un microsettore. Però tutta la dottrina che negli anni si era occupata di questo microsettore, a partire già dal 1976, il primo è Mantovani, tra i penalisti che se ne occupò in maniera diffusa, sollecitò una problematica di riforma, di riforma della materia in linea con l'articolo 9 della Costituzione, e questo è il fondamento costituzionale. L'articolo 9 è nel testo storico che conosciamo, non in quello novellato lo scorso anno, cioè laddove la Repubblica tutela il patrimonio artistico della nazione. Quindi il referente costituzionale, il bene costituzionale, era diventato anche nelle proposte degli uricondendo della dottrina il perno attorno al quale creare un sistema di tutela penale diretta e non indiretta del bene culturale, perché in realtà fino all'odierna riforma si poteva parlare di una tutela penale indiretta, cioè il bene culturale, poi dovremmo capire cos'è il bene culturale, e qui la sessione precedente amministrativistica ci ha aiutato, perché poi, lo possiamo già dire, la nozione di bene culturale continua ad essere quella amministrativa, anche ai fini penali. Però insomma, poi capiremo bene che cos'è, forse capiremo bene che cos'è il bene culturale, ma comunque il bene culturale trova un referente costituzionale che però a livello di codice penale, fino all'odierna riforma era tutelato in maniera, possiamo dire, pulviscolare, occasionale, 635, in alcuni casi, nell'ipotesi dell'aggravante, 625, furto, aggravato, dall'esposizione a pubblica deferenza, nel caso dei beni esposti nelle chiese, insomma, non è che ci fosse una tutela diretta del patrimonio culturale, per quanto riguarda il codice penale, e poi c'era tutto l'assetto extra penalistico, che a sua volta è stato oggetto di numerose modifiche, successioni, dalla legge del 39 al testo unico, ed infine compilativo, ed infine al codice dei beni culturali del 2004, che prevedevano poi, e prevedono ancora, prevede ancora un appendice sanzionatoria dedicata alla parte penalistica, quindi un microsettore con un apparato sanzionatorio, in ottica, come si dice, meramente sanzionatoria, cioè, tutela amministrativa, e poi, come accade nei codici di settore, come nel codice dell'ambiente, ora però abbiamo anche i reati ambientali nel codice penale, ma insomma, la tutela amministrativa affiancata dalla tutela penale, in funzione di rafforzo. Il legislatore del 2022 rivoluziona quest'assetto, dicevo, recependo in parte, in parte, i suggerimenti della dottrina, che chiedeva, come ho detto prima, una tutela penale diretta del bene culturale, salvo poi dividersi la stessa dottrina su come operare questa tutela. Una delle divisioni più consistenti della dottrina, che poi troviamo in qualche modo irrisolta nella legge di riforma, è proprio se arrivare ad una nozione penalistica di bene culturale, attorno al quale creare le fattispecie di dittoria diretta. Fu questo, lo diciamo subito, il legislatore del 2022 è rinunciatario, cioè non prevede una nozione autonoma di bene culturale, la presuppone, però costruisce attorno al patrimonio culturale un nuovo bene giuridico di categoria, quindi il patrimonio culturale viene visto non più in un'ottica statica, possiamo dire privatistico, dominicale, come era prima, veniva tutelato indirettamente o direttamente attraverso i reati contro il patrimonio, prevalentemente, 635, 624, 625, che però proteggono qualunque cosa mobile, anche, o immobile, anche il bene culturale, e con una tutela invece dinamica, si è detto, in uno schema pubblicistico, dove il bene culturale è presidiato da un regime pubblicistico di tutela, facente capo al Ministero, la volta scorsa abbiamo visto qual è la tutela, qual è la forma di controllo autorizzatorio che il Ministero esercita sui beni culturali, in particolare, quando debbono essere trasferiti all'estero, o in via temporanea, o in via definitiva, e qual è la preoccupazione attraverso il regime autorizzatorio, il pericolo che si può correre quando un bene va all'estero, rispetto ad un paese come il nostro, che è un paese che è fonte di beni culturali, prevalentemente, quindi c'è questa tematica, e quindi un assetto pubblicistico di tutela che, come dicevo, fa riferimento ad un perno costituzionale. Quindi c'è questa rivoluzione a livello penalistico, ripeto, c'erano stati tanti tentativi di riforma mai approvati nelle scorse legislature, le scorse intendo tre o quattro legislature fa, e devo dire che il testo di legge che poi è entrato in vigore e io ho fatto un confronto, è sostanzialmente identico, analogo ai testi che erano stati proposti nelle altre legislature, salvo qualche aggiunta, salvo qualche modifica in tema di 231, ad esempio, ma altrimenti l'assetto è quello. E, contemporaneamente, il legislatore del 2022 ha inteso, attraverso questa nuova disciplina, recepire anche la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali. La cosiddetta Convenzione di Nicosia, che era stata sottoscritta nel 2017 e anche lì, dopo tanti dibattiti che si erano succeduti a livello internazionale, si è arrivati poi a questa Convenzione, che è stata ratificata dal nostro Parlamento in contemporanea con l'approvazione praticamente della nuova legge, di qualche settimana prima la ratifica della nuova legge e della legge rispetto alla nuova legge sui beni culturali. Quindi, i due iter parlamentari sono andati in parallelo. Convenzione di Nicosia, che, peraltro, è stata ratificata a livello internazionale da cinque o sei paesi, non da tutti i paesi firmatari, ma è entrata in vigore a livello internazionale. Bastavano cinque ratifiche, quindi, con la ratifica italiana è scattata in vigore anche la ratifica internazionale. Convenzione importante, peraltro, perché, diciamo, è l'epilogo anche lì di un dibattito internazionale che si è che si è prolungato molto, perché poi ci sono varie anime, i paesi che sono ricchi di risorse, di beni culturali, che chiaramente hanno una certa preoccupazione a proteggere, quindi un protezionismo anche legislativo, a proteggere i beni culturali, e invece i paesi che sono alla ricerca di beni culturali, e quindi queste diverse anime poi hanno trovato anche un lungo dibattito in sede internazionalistica per arrivare ad una convenzione, ad una sottoscrizione di una firma comune, poi alla fine si è arrivata, si è parlato di vittoria di Nicosia dopo una lunga navetta legislativa che si è tradotta in questa convenzione che arriva a proteggere il patrimonio culturale o l'eredità culturale, a livello di convenzione si parla di eredità culturale come concetto ideale più preciso secondo alcuni rispetto a quello di patrimonio culturale perché secondo alcuni il patrimonio culturale ricorda ancora un'accezione troppo per l'appunto patrimonialistica invece qua si farebbe riferimento ad un patrimonio ideale. Qual è l'importanza della convenzione e della nuova legge rispetto al fenomeno criminale sotteso? Perché poi se non si capisce qual è il fenomeno sotteso non si capisce perché il legislatore ha voluto questa riforma e non si capisce nemmeno se questa riforma è centrata rispetto al fenomeno criminale sotteso. Possiamo dire che il fenomeno del traffico illecito degli oggetti d'arte chiamiamoli così è un fenomeno antichissimo c'è sempre stato ha inzitutto una vocazione transnazionale e quindi questo è il primo tratto la transnazionalità che complica molto anche a livello investigativo le indagini ma anche a livello amministrativo perché c'è tutto il problema dei rapporti fra le diverse leggi che riguardano la regolazione del bene che poi può circolare lecitamente o illicitamente o attraverso i vari passaggi i vari scali che il bene fa poi si liceitizza se a monte c'era un'uscita illecita è un settore connotato da un certo campo oscuro quindi una cifra oscura rispetto alla quale quindi non affiora il fenomeno criminale quindi rimane diciamo una cifra oscura noto dicevo prima fin dall'antichità ed è negli ultimi decenni che è diventato particolarmente allarmante si dice che dopo le armi la droga è il terzo settore criminale a livello mondiale come fenomeno si parla ne parla ne parlano varie fonti internazionali poi i numeri sono stati dati ma i numeri sono abbastanza approssimativi perché non si riesce a dare un numero un numero preciso però l'UNESCO parla insomma di terzo fenomeno come fenomeno criminale a livello di grandezza a livello mondiale e è agevolato da vari fattori questo fenomeno fattori che ne alimentano sicuramente la pervasività sicuramente il fatto che il bene culturale è un bene appetibile economicamente per tutti i soggetti della filiera che a vario titolo si interessano del bene fino ad arrivare alla catena terminale del traffico poi abbiamo una struttura di mercato che viene definita da criminologi grigio perché non è né totalmente bianco né totalmente nero è grigio è grigio perché abbiamo il settore dell'arte e dell'antichità perché rispetto ad altri settori come quello delle armi o della droga che è un fenomeno totalmente nero il fenomeno il black qui abbiamo un mercato che è lecito perché nelle aste i musei quindi c'è nelle fondazioni c'è chiaramente un fenomeno di antiquari fenomeno lecito commerciale a monte però c'è il rischio illecito cioè dell'immissione nel mercato lecito del bene illecito ecco che si parla di rischio di penetrazione nel mercato lecito del bene di provenienza illecita e questo responsabilizza aggrava anche gli oneri di controllo sui soggetti che nel mercato lecito debbono operare a qualunque titolo a titolo commerciale a titolo diciamo museale a titolo di ricerca e quant'altro e quindi il problema dello studio dei meccanismi distorsivi del mercato su quale possono essere le forme di diciamo di pervasività di questo mercato che penetra poi alla fine si pulisce il bene illecito nel mercato lecito e la permeabilità del settore e poi il tema del saccheggio che avviene nelle zone di guerra questo è un tema importante tanto più ci sono i fenomeni bellici o anche terroristici pensiamo al Medio Oriente situazioni di conflitto armato tanto più si registrano forme di saccheggio del bene culturale che diventa anche bottino di guerra che poi deve in qualche modo essere smerciato quindi tema anche prettamente politico di difesa e la presenza dei nostri militari italiani all'estero nelle missioni di pace a volte anche a presidio di questo di questo fenomeno qua e il tema anche dell'instabilità politica quindi ecco attraverso il bene culturale insomma si intercettano tutta una serie di problematiche commerciali ma addirittura politiche addirittura belliche insomma quindi la vulnerabilità dei siti di interesse culturale è nota nelle situazioni nelle situazioni belliche poi c'è anche un altro tema che è l'agile portabilità dei beni culturali mobili non quelli immobili quindi sono agevolmente trasportabili si parla di beni mobili o mobilizzati e come dicevo prima spesso subiscono vari scali nei vari trasporti quindi escono illecitamente poi diciamo si stazionano temporanamente in un paese che magari potrebbe avere una legislazione di favore si liceicizzano e poi arrivano a destinazione spesso magari sono crimini anche su ordinazione perché magari c'è il soggetto diciamo facoltoso che vuole ottenere un bene attraverso canali poco legali e la scarsa tracciabilità all'origine di molti beni soprattutto da parte di quei paesi che appunto sono in zone di guerra piuttosto che paesi che ne hanno troppo di bene di beni culturali che non riescono nemmeno a catalogarlo agevola agevola questo questo fenomeno infine il tema che era sottolineato un po' da tutti era quello dei bassi rischi penali che si corrono in questo settore dicevo c'è una cifra oscura molto elevata e quindi la lo scarso rischio penale ha alimentato negli anni nei decenni il traffico clandestino di beni di beni culturali soprattutto a livello internazionale e poi abbiamo detto le diverse anime tra i paesi fonte e i paesi market mercato di beni culturali tra quelli che saccheggiano e quelli che vengono spogliati ed altri che invece agevolano la mimetizzazione del traffico questo è il fenomeno sotteso di fondo più o meno nel quale ci si muove che è stato studiato da molta letteratura anche americana a livello criminologico e poi ha trovato un punto di approdo anche nella convenzione di Nicosia con l'impegno dei paesi firmatari ad arrivare ad una legislazione condivisa per cercare di recepire le diverse istanze e le diverse anime dei diversi dei diversi paesi peraltro la convenzione di Nicosia contiene un'autonoma definizione di bene culturale questo lo dico perché quando poi si porrà a livello penalistico il problema di quale definizione adottare di bene culturale attorno al quale sono stati costruiti reati è vero che abbiamo una nozione interna di bene culturale che è quella del codice del bene culturale di articolo 2 e seguenti ma dobbiamo ricordare che c'è anche una nozione internazionalistica e siccome la legge 22 del 2022 recepisce la convenzione di Nicosia lo ricaviamo agevolmente dai lavori parlamentari e proprio dal conio di alcune norme che sono proprio la ratifica interna di alcuni illeciti previsti della convenzione di Nicosia sapere che esiste una nozione convenzionale può essere importante per risolvere magari alcuni profili interpretativi che si potrebbero avere proprio in relazione alla nozione di bene culturale è una nozione orientativa è una nozione molto lunga non la leggo perché è lunghissima ma è una nozione che a sua volta fa rinvio alla convenzione UNESCO del 1970 quindi insomma la materia è faticosa perché poi c'è questo costante rinvio a fonti internazionali a fonti interne a fonti speciali per cui la si può affrontare ma in un'ottica sistematica che non sempre è facile da cogliere la nozione di Nicosia fa rinvio alla nozione di bene mobile e di bene immobile in parte autonoma in parte facendo rinvio alla convenzione UNESCO del 1970 quindi è una nozione che potrebbe avere eventualmente valore orientativo ma pone l'interprete al dovere di effettuare tutta una serie di rinvii per cui si fa riferimento a rare collezioni a beni legati alla storia prodotti di discavi archeologici monumenti artistici e storici antichità che hanno più di cento anni iscrizione monete incisioni oggetti di interesse etnologico bene di interesse artistico quadri disegni dipinti su qualsiasi materiale opera originale incisione originale stampi litografie manoscritti rari incunaburi libri antichi affrancature marche francobolle collezioni archivi archivi sonori fonografici cinematografici cioè è un mondo vastissimo e più i beni immobili religiosi secolari definiti specificamente disegnati da qualsiasi parte della convenzione UNESCO e questo a livello internazionale quindi una tutela molto 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 ampia che intercetta l'ambito di applicazione fatalmente della nuova legge veniamo ora alla nuova legge questo è il contesto che diciamo di fondo che però bisognava conoscere per lo meno accennarlo per capire se la nuova legge c'entra in parte questi temi oppure no la convenzione di Nicosia tra l'altro prevedeva l'obbligo di responsabilizzare anche le persone giuridiche questa vera novità è stata recepita nella nuova legge poi ne parleremo la responsabilizzazione delle persone giuridiche è un tema che ormai si pone su qualunque settore non c'è legge penale ormai che non aggiunge al catalogo di parte speciale una norma in più quindi ormai la parte speciale della 231 è un catalogo infinito sta diventando sempre più sempre più lungo chiaramente questo pone tutto un tema di responsabilizzazione dei soggetti dei commercianti dagli antiquari ai musei alle fondazioni a tutti i soggetti che costituiti in forma societaria o entistica in genere debbano valutare i rischi i rischi delle loro aree di operatività con un onere particolarmente importante perché rispetto ad un settore così pervasivo diciamo la compliance che deve essere effettuata la mappatura dei rischi diventerà un tema sul quale diciamo soffermarsi già in queste prime questi primi mesi di applicazione insomma immagino che ci sarà stata una revisione da parte di tutti i soggetti interessati dei modelli 231 che sono stati che erano stati adottati che non erano stati adottati perché finora non erano reati presupposto e che invece sono stati adottati ex novo per evitare le sanzioni le sanzioni previste della 231 che in certi settori sono persino più afflittive rispetto a quelle a carico delle persone fisiche non è questo il settore perché in questo settore a carico delle persone fisiche come vedremo la risposta sanzionatoria è quasi draconiana però esistono alcuni settori in cui invece la risposta ex 231 è persino più preponderante rispetto a quelle perché più moderna rispetto a quello della responsabilità delle persone delle persone fisiche interrompetemi quando ritenete di fare una pausa se no io proseguo con questa disamina generale la parte interessante a livello penalistico è l'operazione di trasposizione all'interno del codice penale di fatti specie che prima erano previste nella legislazione speciale per cui sono stati trasferiti attraverso la legge 22 del codice penale collocate all'interno del nuovo titolo 8 bis una serie di illeciti che già esistevano nel nostro ordinamento ma che erano relegati nella legge speciale non tutti sono rimaste le contravvenzioni sono stati trasferiti nel codice penale i delitti che erano già compresi nel decreto legislativo 42 del 2004 qual è il criterio che ha seguito il legislatore non è che sia stato ben chiarito ma lo si può evincere le contravvenzioni e i reati formali sembrerebbero rimasti nel rango della legge speciale quindi i reati di pericolo quelli invece di danno insieme agli altri reati di nuovo conio che sono stati collegati nell'ottavo bis sono stati inseriti nel codice penale in ossequio al principio della riserva di codice del 3 bis tutti sono stati collocati all'interno del nuovo titolo del codice penale titolo 8 bis che è dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale e quindi abbiamo a partire dal 518 bis e seguenti la introduzione di nuove fatti specie che a questo punto abbiamo detto possiamo dividere in due categorie alcune di nuovo conio altre la trasposizione delle fatti specie già esistenti con qualche piccola rivisitazione a livello sanzionatorio ma non a livello contenutistiche che sono state codificate dentro il codice penale il tutto come si è detto nell'ottica della tutela della miglior tutela del paesaggio del patrimonio storico artistico a livello di articolo 9 della costituzione quindi se finora il 624 il 625 piuttosto che il 635 comma 2 piuttosto che il 639 del codice penale piuttosto che il 733 o 734 codice penale erano le uniche fatti specie dedicate ai beni culturali ma in maniera pulviscolare ora abbiamo un titolo autonomo dedicato al patrimonio culturale questa è la nuova oggettività giuridica di riferimento a livello ideale ma anche a livello di criterio di bene giuridico sappiamo che il criterio del bene giuridico è un criterio rilevante anche a fini interpretativa e quindi il riferimento è il patrimonio culturale inteso come bene di categoria di rango primario di valore ideale attorno al quale il legislatore ha creato tutte queste nuove fatti specie che sono per una parte le stesse previste contro il patrimonio di cui ha doppiato la tipicità per l'altra parte come ho detto sono quelle che erano già contenute nella legislazione di settore e la culturalità quindi la cosa culturale la culturalità diventa il connotato specializzante di tutte queste nuove fatti specie di reato per quanto riguarda quelle contro il patrimonio dall'appropriazione in debita dal furto dei beni culturali al riciclaggio all'autoriciclaggio al reimpiego assistiamo ad un fenomeno proprio di doppiaggio è stato doppiato il tipo penale contro il patrimonio con la specificità con la specialità che la condotta ad oggetto il bene culturale e quindi torniamo al problema di partenza se non è chiaro cos'è il bene culturale non sappiamo non sapremo mai quando si applica il furto comune piuttosto che il furto su bene culturale questa cosa la possiamo replicare per il reimpiego per l'appropriazione in debita per la ricettazione per il riciclaggio per l'autoriciclaggio cioè per tutte quelle fatti specie contro il patrimonio che oggi trovano una specificità penalisticamente la possiamo definire specificità per aggiunta perché il bene mobile altrove punito a livello generico come componente del patrimonio individuale qui viene specificamente e meglio punito o più severamente punito in ragione del fatto che si tratta di una cosa culturale che trova un referente costituzionale quindi il referente costituzionale diventa la giustificazione e l'unica giustificazione per il maggior trattamento sanzionatorio che qui si annette quindi lo stessa condotta se ad oggetto una bottiglia di vetro è un furto se ad oggetto probabilmente questo scranno o comunque un bene culturale contenuto qua dentro o questa stessa lampadaria o se fosse un bene culturale è più severamente punito perché più severamente punito ed è più severamente punito in termini consistenti mediamente più o meno siamo tra un terzo e la metà di spread sanzionatorio chiamiamolo così che viene individuato nelle nuove fattispecie beh perché dobbiamo ricavarlo diciamo sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata perché se è un bene costituzionale se è un bene pubblico se il bene culturale è un bene deperibile che è a rischio di essere saccheggiato che può essere distrutto che può essere tolto alla collettività che ha un assetto pubblicistico a titolarità diffusa deve ricevere una protezione più intensa dobbiamo trovarla in questi termini nella giustificazione di questo maggior trattamento sanzionatorio a differenza del bene individuale che se è oggetto di condotte di reato trova un referente diverso anche la proprietà individuale chiaramente è un bene costituzionale ma evidentemente in questo caso ha un rango un rango più basso quindi il bene culturale inteso come cosa che è una testimonianza materiale avente valore di civiltà questa è la definizione generale data dal codice i beni culturali deve ricevere secondo il legislatore del 2022 proprio perché è un bene unico deperibile una maggior tutela e questa maggior tutela è stata creata attraverso la tecnica di una protezione a tutto tondo in tutte le fasi di possibile aggressione del bene culturale per cui abbiamo i reati di aggressione diretta del bene culturale le azioni di spoglio tutte quelle azioni che direttamente colpiscono immediatamente il bene culturale e quindi il furto e quindi la propria azione indebita e abbiamo un'aggressione diretta una spogliazione e quella trova una risposta specifica poi abbiamo le azioni di danneggiamento che pure trovano una le azioni di spoglio che chiaramente ostacolano la titolarità diffusa del bene le azioni di danneggiamento ostacolano la fruibilità diffusa del bene per cui abbiamo una serie di reati che sono ad esempio la devastazione e il saccheggio di beni culturali paesaggistici che vanno ma anche la distruzione a dispersione deterioramento deturpamento imbrattamente uso illecito di beni culturali le rubriche sono molto lunghe vanno a colpire invece la fase del danneggiamento quindi una tutela diversa contro il rischio del depauperamento e poi abbiamo i reati di secondo grado finora erano reati che colpivano le fasi del godimento del bene culturale e della conservazione quindi spoglio e danneggiamento e quindi la fase di accesso al bene culturale e poi abbiamo la fase del lavaggio del bene culturale quindi tutela di secondo livello che però nella stessa ottica della tutela patrimonialistica del codice penale trovano una risposta più intensa perché se si alimenta il mercato del lavaggio del bene culturale si alimentano poi a monte le azioni di spoglio e quindi abbiamo i reati di secondo grado dalla ricettazione al riciclaggio all'impiego di beni culturali all'autoriciclaggio che sono a loro volta puniti per la caratura criminale che l'azione aggressiva di secondo grado nel mercato di riferimento determina mercato che può essere abbiamo detto però anche internazionale anzi soprattutto internazionale e che quindi trovano una una ulteriore tutela di questo tipo sempre però una tutela diretta non è più una tutela indiretta perché anche prima potevamo configurare una ricettazione di bene culturale ed una ricettazione o un reimpiego come bene mobile però occasionalmente il bene culturale poteva essere oggetto di condotta come poteva essere un'autovettura piuttosto che un'altra o un titolo di credito e quant'altro qui abbiamo una tutela diretta specifica ripeto con delle pene che sono molto molto più elevate rispetto ai corrispondenti reati comuni e si è detto appunto che questo intervento di campo del legislatore segna il definitivo passaggio dalla tutela penale indiretta alla tutela penale diretta dove l'oggetto la cosa d'arte ha il valore in sé ed è protetto a 360 gradi attraverso le varie le varie condotte aggressive e poi abbiamo i reati di pericolo i reati questi sono i reati sostanzialmente di danno di circolazione illecita che sono di nuovo conio di nuovo conio possiamo dire come titolo autonomo però perché in realtà sono a livello di successione di norme penali erano già punibili questi contegni chiaramente con riferimento alle condotte comuni più o meno più o meno quasi tutte diciamo possiamo parlare di nuove incriminazioni in alcuni casi di autentiche nuove incriminazioni per lo più abbiamo sicuramente un maggior trattamento sanzionatorio previsto a questo autonomo titolo di reato però per lo più non è che si è colmato un vuoto di tutela penale completamente si è trovata una tutela più intensa e diretta rispetto ad un'area che in qualche modo sia pur occasionalmente sia pur non totalmente era comunque già presidiata dal codice penale però sicuramente c'è una tutela ampia e diretta esistono però poi dei reati invece completamente di nuovo conio che invece non trovano il corrispondente sul fronte del patrimonio comune in questo senso ad esempio la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali è veramente un reato di nuovo conio perché qui abbiamo a che fare con un reato di falso in scrittura privata che sappiamo essere ormai fatti specie da tempo depenalizzata e invece se il falso in scrittura privata ad oggetto un bene culturale ora non faremo in tempo ad analizzarla addirittura costituisce lato quindi qua è particolarmente importante e qui possiamo parlare veramente di nuova incriminazione se ha a che fare con un bene culturale il fatto diventa reato se non è un bene culturale il fatto è lecito penalmente quindi qua c'è un salto che è di scelta politico-criminale particolarmente importante e particolarmente evidente come pure rispetto ad alcune contravvenzioni al cosiddetto possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio di terreno o di apparecchiature per l'arrivazione dei metalli possesso di metal detector che è una contravvenzione di pericolo che è stata collocata nel codice penale il nuovo 700 bis che anche questa è una contravvenzione di nuovo conio che tra l'altro smentisce la scelta politico-criminale di lasciare le contravvenzioni nel codice speciale e quindi sporca un po' diciamo la visione d'insieme del legislatore ma insomma al di là di questo è sicuramente una contravvenzione avamposto cioè si punisce chi è in possesso di un metal detector in determinate aree tra l'altro utilizzando un istituto molto problematico che è quello del reato di possesso che sappiamo per la dottrina essere quasi un orrore per alcuni quasi un retaggio di uno stato di polizia con alcuni presidi perché è un reato di possesso che scatta soltanto in determinati luoghi in determinate condizioni perché il possesso di quello strumento può determinare poi uno scavo clandestino che a sua volta è un reato che se poi giunge a compimento determina il rinvenimento di un bene che potrebbe essere sottratto la collettività e quindi potrebbe creare una circolazione illecita quindi un pericolo un pericolo che è presidiato in una fase molto 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 prodromica quindi a spanne potremmo dire che dobbiamo parlare di nuove incriminazioni cioè di settore completamente nuovo oggi penalizzato abbiamo la falsificazione abbiamo l'uscita poi su questo magari ci torneremo che è un fatto nuovo l'uscita del bene culturale e questa contravvenzione per il resto si è rimaneggiata la materia o doppiando figure di reato già previste genericamente a tutela del patrimonio o delitti di secondo grado con delle aggiunte con delle significative aggiunte o codificando la legislazione speciale che era prevista nel codice di settore dove ora rimangono soltanto le contravvenzioni 5 minuti accenno soltanto ad alcune problematiche poi magari sono a disposizione quali sono i problemi che pone questo è l'assetto di fondo a questo il legislatore ha aggiunto e questo è interessante delle nuove ipotesi di circostanze aggravanti che non facciamo in tempo a vedere delle circostanze attenuanti di collaborazione del reo che collaborano con l'autorità di polizia il che avvicina questo settore al settore di criminalità organizzata le attenuanti diciamo della collaborazione sono tipiche della criminalità organizzata e quindi è un settore anche di interesse della criminalità organizzata delle ipotesi di confisca che più o meno replicano quelle già esistenti nella legislazione di settore ma e l'ho scritto nella relazione con qualche errore probabilmente di scrittura che potrebbero porre dei problemi applicativi non si capisce se c'è una confisca senza condanna applicabile soltanto ad un reato o forse a tutti i nuovi reati che sono stati introdotti e questo è un tema magari del quale forse parlerà il collega dopo e la 231 ne abbiamo già parlato e poi c'è una clausola interessante che vi volevo richiamare perché poi riguarda anche il tema investigativo della transnazionalità cioè il fatto è punibile anche se è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale italiano è chiaro che è una clausola che deroga i criteri di territorialità del codice penale ma è una clausola che può funzionare nella misura in cui hai una rete di interforze che collabora a livello di forze di polizia quali sono i possibili problemi ne accendo soltanto un paio perché se no sembra che ho fatto un'analisi teorica e poi non mi disconosco completamente quali possono essere i problemi pratici che gli avvocati gli operatori di diritto si trovano a dover affrontare da subito e il primo problema l'ho già accennato il bene cos'è un bene culturale non è affrontato non è definito il dover far rinvio alla legislazione di settore però è un problema di determinatezza il legislatore ha rinunciato non ha dato un'autonoma definizione costringe l'interprete a definire il bene culturale sulla base della legislazione di settore che però è tecnica è ricca di rinvii pone grossi problemi e quindi qua si possono alimentare tutti quei temi la rimproverabilità del precetto penale l'accessibilità l'imprevedibilità tanto più la nozione di bene culturale e tecniche tanto più è difficile poi andare a dimostrare la consapevolezza di si dirà ma questo è un microsettore dove anche chi agisce è perfettamente consapevole perché può essere può essere però è perfettamente consapevole della culturalità del bene del quale sta trafficando può essere ma non è detto insomma e comunque il bene culturale è elemento costitutivo della fattispecie nel momento in cui un elemento costitutivo della fattispecie che determina quello spread sanzionatorio o quell'apparato repressivo di 2-3-1 piuttosto che di confische in alcune ipotesi anche senza condanna ma con un accertamento incidentale di responsabilità e tutto passa attraverso la nozione di bene culturale quello può essere un momento di fragilità la difesa potrebbe evidentemente invocare il mio assistito non credeva che quel coccio rinvenuto nella sua campagna mentre stava scavando per 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 l'orto fosse fosse un coccio etrusco e quindi qui c'è tutto il tema del dolo del dolo eventuale del non poteva non sapere del non poteva non riconoscere eccetera questo è un primo grosso tema il tema dell'errore il tema della dell'errore anche su legge extra penale ma che fonda un elemento costitutivo della fattispecie penale ma è un errore che occupa trasversalmente tutte le fattispecie di nuovo conio quindi questo è importante secondo tema il legislatore che è collegato a questo il legislatore del 2022 non ha non ha previsto una tutela formale cioè proprio perché la tutela formale è bene culturale quello che ha questa definizione ha affidato al giudice la tutela sostanziale all'interprete giudice ma prima è pubblico ministero ma prima è polizia giudiziaria o funzionario amministrativo quindi in prima battuta è rimessa la discrezionalità inevitabile interpretativa o l'opinabilità del funzionario dell'operatore di polizia giudiziaria a stabilire quale è il bene cos'è un bene culturale che non è detto che sia sempre in equivoco questo è il problema non è detto che sia sempre in equivoco e da lì poi scatta tutto il presidio penale questo è il primo limite l'altro tema non ha affrontato il tema dell'arte contemporanea le opere di arte contemporanea rientrano non rientrano e non è stato affrontato probabilmente sì probabilmente bisogna vedere a seconda delle fattispecie insomma la giurisprudenza finora ha sempre ritenuto che la tutela penale del patrimonio culturale non è una tutela formale ma è sostanziale quindi è di volta in volta il giudice che può verificare la culturalità del bene che va bene probabilmente rimarrà questa giurisprudenza il problema è che con un assetto così rinnovato forse si poteva esigere anche alcuni commentatori sono in questo senso un tasso di determinatezza maggiore l'altro tema che poi in fondo è collegato a questo e chiudo esistono molte fattispecie in particolare violazioni in materia di alienazione dei beni culturali importazione illecita e uscita e esportazione illecita che sono impregnate di tecnicismo non il furto non l'appropriazione indebita che tutto sommato fanno riferimento a delle condotte diffuse e di uso comuno ma questa seconda parte dal 518 novi in poi se noi andiamo a leggerle non facciamo in tempo sono fattispecie di reato che non a caso prima erano collocate nella legislazione di settore che funzionano diciamo girano nella misura in cui si interpretano le norme amministrative di riferimento in tema di autorizzazione temporanea dell'esportazione autorizzazione permanente da eroghe e quant'altro nel momento in cui tu hai estrapolato queste fattispecie le hai collocate nel codice penale ma non le puoi interpretare autonomamente ma devi comunque fare riferimento a quel tecnicismo e a quel presidio amministrativo forse questa scelta è una scelta diciamo poco comprensibile perché comunque l'interprete penale non può avere una nozione autonoma di esportazione illecita se non conosce tutto il regime autorizzatorio che sta a monte e il regime autorizzatorio pubblica amministrazione interventi della pubblicazione pone tutte quelle problematiche note del sindacato del giudice penale sui procedimenti amministrativi e sui procedimenti autorizzatori e il problema come sempre della conoscenza poi del soggetto che compie questi reati del tecnicismo e della materia tecnica che è sottostante quindi queste sono le due principali problematiche che mi sembra di poter porre che però non sono problematiche di poco rilievo perché in qualche modo in qualche modo vanno pure ad inficiare la comprensibilità del precetto e la sua facile applicabilità a fronte di un apparato sanzionatorio che è particolarmente severo ringraziamo il dottor Natalino grazie a voi e passo la parola invece al dottor Tommaso Piva che è consigliere del board dell'associazione antiquari d'Italia e che ci parlerà del ruolo dell'antiquario nella commercializzazione delle opere d'arti prego dottore grazie buongiorno grazie a tutti grazie a tutti per darvi questa opportunità di parlare di far vedere anche dalla parte diciamo del commerciante come si trova ad operare in questo regime giustamente di leggi che regolamentano tutta la circolazione e la protezione è chiaro che la protezione del patrimonio anche per noi antiquari è sacrosanta ma bisogna vedere come i rischi e i pericoli che l'antiquario può incontrare nel suo lavoro quindi innanzitutto vediamo come l'antiquario modello oggi qui rappresento l'antiquario modello è un antiquario che rispetta le leggi come cosa che dopo è scontata insomma è una piccola introduzione quindi vediamo come agisce nel momento che acquisisce un'opera l'antiquario si accerta della legittima provenienza del bene stipula un contratto vero e proprio di acquisto con il proprietario dove prende le generalità di questo e dove il venditore dichiara la sua legittima proprietà e che l'oggetto è libero da gravami l'acquisto chiaramente deve avvenire sì scusate l'acquisto chiaramente deve avvenire in modalità trasparenti in luoghi che non destino dei sospetti a prezzi congrui e con pagamenti ovviamente tracciabili e tutto quello che può fare insospettire l'antiquario il commerciante porta a ulteriori controlli o anche alla rinuncia dell'acquisto e lo stesso vale se l'antiquario compra anche da un altro professionista una casa d'asta un collega o anche se si dovesse far prestare ad esempio un'opera in affidamento per un certo periodo e può capitare poi a chiunque anche all'antiquario di incorrere in errore e comprare per esempio un bene rubato un'opera rubata che risulta rubata ma è chiaro che l'antiquario modello che agisce quindi in modo trasparente può sempre e senz'altro dimostrare la sua buona fede quindi siamo i primi a volere anche che chi agisce con modi illeciti e non rispetta le leggi quindi venga perseguito e come deve essere punito chiunque deturpi o danneggi un bene culturale così anche che commercia consapevolmente opere contraffatte o addirittura rubate auspichiamo che venga non solo perquisito ma anche messo nella impossibilità di continuare a delinquere quindi noi antiquari siamo d'accordo nel sottostare a molte regole che la burocrazia ci impone ma vorremmo che queste regole fossero possibili comunque da seguire perché di fronte alla impossibilità talvolta di seguire le leggi le regole diciamo il buon antiquario l'antiquario modello si arrende e magari si ferma mentre forse non si ferma chi lavora nel sommerso tante volte e vediamo quindi quali sono queste leggi che possono in effetti mettere l'antiquario nell'impossibilità o ad alto rischio diciamo nel suo lavoro e di trovarsi quindi in situazioni anche penalmente perseguibili in seguito a questo aumento di severità delle pene previsto nell'ultima legge allora il primo caso in realtà è più una lacuna che vado a sottolineare c'è una certa difficoltà per l'antiquario è la mancanza di un censimento dei beni culturali di proprietà privata i beni notificati perché se sappiamo che sono parte del patrimonio culturale tutti i beni dei comuni delle chiese dei musei delle biblioteche tutto quello che c'è in sito ma ci sono anche i beni di proprietà privata notificati e che quindi fanno parte del patrimonio culturale e dunque e sappiamo che queste opere devono seguire delle regole specifiche per la loro movimentazione la loro vendita anche per il restauro può capitare però che un commerciante comperi un'opera notificata in realtà senza saperlo perché il venditore non glielo dichiara magari anche lui in buona fede perché tante volte un erede non sa oppure i documenti si perdono tante volte i privati non sanno neanche dell'esistenza dell'istituto della notifica quindi magari uno è ereditato da un lontano parente e non si pone neanche il problema fatto sta che diciamo non ne facendo in questo caso l'antiquario può avere delle conseguenze penali importanti tanto più se nel frattempo l'opera è stata venduta e ancora ci sono dei casi in cui l'antiquario magari ha ottenuto addirittura l'attestato di libera circolazione in un secondo tempo poi a distanza di tempo può venire fuori che l'opera è già notificata ed è chiaro che il commerciante si trova in grave difficoltà a dimostrare la sua ignoranza in quel caso tanto più se è passato del tempo se l'oggetto è passato anche magari di diverse proprietà per cui questo diciamo è un primo tema per noi molto sensibile e auspichiamo proprio per questo che ci arrivi a ridigere un database un database diciamo di tutte le opere vincolate di proprietà privata perché aiuterebbe sia l'antiquario sia il commerciante ma anche gli uffici esportazioni e lo Stato in generale per tenere sotto controllo il proprio patrimonio nazionale si potrebbe chiaramente approfondire il tema molto delicato e complesso della notifica però ci vorrebbero forse dei convegni dedicati a questo tema c'è non solamente al concetto di eccezionale interesse artistico e culturale che deve avere il bene come come determinarlo quale la soglia quali i criteri da seguire i pareri che possono determinare l'importanza di un bene possono cambiare nel tempo e soprattutto possono cambiare sulla base sia delle diverse sensibilità delle commissioni che giudicano ma anche sulla base di nuovi studi è giusto forse notificare oggi un'opera che magari non era considerata 50 anni fa per esempio e viceversa ma rimane secondo me che queste opere dovrebbero essere di importanza assoluta cioè nel momento in cui vengono giudicate e qui lancio una piccola provocazione perché se è giusto che gli attestati di libera circolazione abbiano una durata in quanto può cambiare il giudizio sull'importanza del bene forse proprio per questo dovrebbero avere una durata nel tempo anche le notifiche stesse o comunque la possibilità di ridiscuterle forse a distanza di tempo e su questo diciamo si può si può riflettere un altro punto molto delicato per per l'antiquario modello e che può metterlo in serio pericolo anche proprio quello più diligente è il reatto cosiddetto di importazione illecita legato alla convenzione di Nicosia di cui faceva riferimento il dottor Natalini e quindi il non saper provare da parte dell'antiquario che un bene italiano perché parliamo dal nostro punto di vista sia uscito come sia uscito cioè si sia uscito legalmente o meno dal suolo nazionale quindi parlo di beni che l'antiquario non che esporta lui ma che lo compra all'estero lo compra da un collega lo compra presso una casa d'aste noi sappiamo bene che i beni d'arte d'antiquariato circolano in Europa e nel mondo da molto tempo alcuni forse anche da prima che gli stessero le leggi sulla circolazione internazionale e comunque è veramente difficile se non impossibile nella maggior parte dei casi sapere la provenienza storica di un bene perché o questo bene è conosciuto pubblicato o riconoscibile da dei documenti che ne permettano di ricostruire la storia oppure ci dobbiamo affidare a quello che dice il venditore la sua professionalità un bene che si trova già all'estero da chissà quando da chissà quanto tempo non è accompagnato da documenti non è accompagnato dagli attestati di libera circolazione intanto sarebbero documenti scaduti oggi durano 5 anni fino a poco tempo fa duravano 3 anni e comunque non c'è nessun obbligo di consegnarlo al compratore tanto più se nello stato del compratore non c'è neanche l'obbligo di averlo per cui questo è proprio un problema anche di avere in mano una documentazione specifica ed è però questa inversione dell'onere della prova che si richiede al commerciante di giustificare l'uscita legale dal proprio territorio che lo mette nell'impossibilità di lavorare in quelle circostanze ora e se questa impossibilità di provare l'uscita legale dal paese d'origine porta ad un sequestro dell'opera per un tempo indeterminato a quel punto l'antiquario o il collezionista non lo importa più o ancora se questa impossibilità di provare l'uscita legale porta anche ad un diniego dell'attestato definitivo dopo aver chiesto magari una temporanea importazione o addirittura un possibile vincolo sull'opera allora a quel punto l'antiquario o il collezionista non lo importa più neanche temporaneamente e bisogna tener conto che gli antiquari italiani che sono specializzati soprattutto in opere italiane cercano questi beni in tutto il mondo e le importano in Italia è vero che le importano temporaneamente per avere maggior libertà di movimento e quindi di poterle vendere ovunque ma è anche vero scusate è anche vero che poi la maggior parte di queste opere finiscono in collezioni italiane il collezionista può a sua volta rinnovare l'attestato di temporanea importazione ma molto spesso poi questo scade lo lasciano scadere per cui i beni in realtà entrano a far parte veramente del territorio italiano in molti casi e quindi noi antiquari antiquario modello perlomeno è senz'altro difensore del patrimonio culturale però se non siamo messi nella condizione di poter seguire le leggi quindi di lavorare in realtà alza le mani e sospende smette di lavorare in quell'ambito mentre credo che chi agisce illecitamente continuerà a farlo con i mezzi che ha sempre utilizzato rischiando quindi di ottenere forse anche un risultato contrario a quello voluto riguardo alle esportazioni illecite ecco infine un altro discorso sempre di uguale importanza è quello relativo all'annullamento all'annullamento in autotutela di atti d'ufficio in particolare per quel che ci riguarda l'annullamento degli attestati di libera circolazione regolarmente rilasciati e questo perché questo annullamento presuppone deve presupporre una dichiarazione mendace del richiedente cosa che quindi lo sottopone al reato ancora penale penalmente punito di esportazione illecita ora pensiamo che sia senz'altro giusto per seguire il richiedente se questo non poteva non sapere di informazioni certe indiscusse sull'opera soprattutto sulla sua paternità o sulla sua provenienza però nell'arte antica avviene spesso che un'opera cambi di importanza tra virgolette questo è assolutamente normale si può essere quindi spesso accusati di non rivelare informazioni fondamentali come la paternità di un'opera la sua provenienza storica ma vi assicuro che l'antiquario modello se non lo scrive se non lo dichiara è perché non lo sa oppure perché non sono non è certo non ci sono dati certi può avere delle intuizioni l'antiquario senz'altro anche avvalendosi di propri studiosi ma rimangono pur sempre dei pareri dei pareri e nella storia dell'arte sappiamo che i cambiamenti di attribuzione avvengono con una certa frequenza se viene esportato un bene come scuola bolognese poi esce e si scopre che è di Guidoreni però è una scoperta magari tante volte un'attribuzione perché dopo magari dopo altri anni invece si scopre che di un altro si scopre diciamo si attribuisce ad un altro pittore oppure ritorna ad essere di scuola bolognese per cui tante volte non c'è questa certezza quindi ancora una volta credo che le opere da vincolare che entrino a far parte del patrimonio culturale debbano essere opere certe e sicure opere di indiscusso interesse culturale di attribuzione di provenienza di legame con la nostra nazione ma se ci sono pareri discordanti oppure se un bene anche pur preciso e di pregio non abbia un eccezionale interesse per il nostro paese in questo caso dovrebbe avere maggiore libertà quindi per concludere dico che il buon antiquario osserva le leggi chiaramente cerca di adeguarsi a tutto quello che gli viene chiesto però vorrebbe lavorare con delle regole seppur scomode ma il più possibile certe e soprattutto che possa rispettare questo perché sappiamo bene che lavoriamo con dei beni sensibili e che l'arte sia un concetto in qualche modo superiore che sia che è da tutelare e anche da valorizzare grazie una curiosità da civilista in questo caso perché siamo in una sessione penalistica però il tema mi stuzzicava da questo punto di vista cioè a livello di contrattualistica come vi tutelate in relazione alla provenienza di un bene che acquistate proprio perché ora c'è un rischio penale nuovo diciamo sia a livello di falsificazione di beni che hanno d'oggetto beniculturale sia in termini di ricettazione o anche gli altri reati ero curioso di sapere la contrattualistica che utilizzate qual è la clausola che immagino utilizzate nei vostri contratti per tutelarvi negli acquisti e diciamo come e se poi a livello anche di 2-3-1 nel caso in cui qualcuno di voi sia costituito in forma societaria quali sono i presidi che state istituendo per la tracciabilità dei beni che acquistate ecco una curiosità pratica ma diciamo che comunque riguarda il rischio penale fermo restando che sono reati dolosi per cui comunque chiaramente bisogna però insomma a livello di contrattualistica penso che ci siano delle procedure standard che ormai in questi anni avete perfezionato e che in vista anche della nuova legge state implementando sì devo dire che beh dal punto di vista contrattualistico noi inseriamo nel nostro contratto con il venditore proprio al di là di prenderne tutte le generalità e quindi di sapere con chi abbiamo a che fare anche la provenienza di solito sono sempre cose private anche perché noi compriamo spesso in eredità per cui sono oggetti di famiglia oggetti che magari invece anche provengono da collezioni perché magari il padre collezionava o lo stesso collezionista a un certo punto decide di vendere parte dei suoi oggetti quello che noi scriviamo come avevo detto prima è anche che l'oggetto sia libero da ogni gravame per cui vabbè questo diciamo ci libera da ogni responsabilità se poi dovessero venire fuori altri eredi per esempio piuttosto che appunto un oggetto che era stato notificato e non lo sappiamo quindi sono delle piccole accortezze per il resto devo dire che è molto di conoscenza personale delle persone è chiaro che se una persona ci ferma in strada o passa con un oggetto molto importante stiamo molto attenti non prima di concludere un affare cerchiamo comunque di raccogliere perlomeno tutto quello che possiamo sulla persona però è proprio a livello più personale sulla persona sulla famiglia di come è arrivato in possesso del bene perché si entra in un rapporto poi confidenziale con l'acquirente tante volte e per cui dovremmo capire ecco della nostra sensibilità di solito chi ha qualcosa da nascondere o è un oggetto che proviene da un reato è molto più frettoloso è una persona che poi che sparisce in un qualche modo per cui ecco è molto a livello personale di conoscenza della persona anche perché sono dei beni diciamo la maggior parte dei casi inediti cioè essendo in casa da tantissimi anni non hai pubblicazioni uno storico quindi sostanzialmente la dichiarazione del venditore che fa fede poi è evidente immagino anche il dottor Pio lo dia per scontato che con tutte le dichiarazioni si arriva il classico reperto sporco ancora di terra in quel caso non c'è dichiarazione non c'è maleva che tenga però di norma sostanzialmente sono le dichiarazioni che vengono fatte dal venditore che difficilmente magari può anche esibire un precedente titolo d'acquisto perché se viene da un'eredità non ha la fattura del primi del novecento sì sì senza notare così e comunque ribadisco spesso provengono proprio da conoscenze referenziate insomma in qualche modo grazie a dottor Piva intanto saluto il dottor Pierluigi Cipolla sostituto procuratore presso il tribunale penale di Roma a cui do subito la parola che ci illustrerà le varie tipologie di confisca e le conseguenze in caso di prescrizione di reato prego dottor Cipolla buonasera a tutti ringrazio ancora una volta dell'invito come per la volta scorsa allora oggi l'argomento specifico è quello relativo alla confisca e in particolare nel caso di prescrizione del reato cercherò comunque di ricollegarmi in qualche modo anche all'argomento del precedente incontro sul patrimonio culturale incognito e anche se si tratterà soltanto di lievi accenni allora la premessa generale che penso comunque sia opportuno fare è che la confisca l'istituto della confisca non è più è ormai da tanti anni quello che fu l'istituto che fu pensato da Rocco nel 1930 ha subito profondi rivolgimenti soprattutto in ultimi 10-15 anni per effetto della legislazione e per effetto anche degli interventi della Corte Europea dei diritti dell'uomo di tal che non è neanche più possibile parlare di confisca bisogna parlare di confische tant'è vero che appunto ce ne sono di diverse e anche con diversa natura ovviamente residua la confisca tradizionale prevista dall'articolo 240 e a questa è stata aggiunta ormai da tanti anni in diversi ipotesi la confisca per equivalente a questa è stata aggiunta la confisca allargata 240 bis ex già 12 sexes della legge 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 306 192 in cui non vengono presi in considerazione degli oggetti che anche solo indirettamente hanno qualche collegamento con reato bensì si tratta di somme di denaro oppure di oggetti di cui l'imputato non possa fornire giustificazione in presenza di una condotta criminosa e specificamente tipizzata a questo poi bisogna aggiungere la confisca a misura di prevenzione prevista da ultimo dal decreto legislativo 159 del 2011 che in realtà è una misura in toto amministrativa anche se si fonda su sospetti di reato anche se si fonda su presupposti soggettivi legati alla persona di colui che subisce questa misura a questo si aggiunge ancora la confisca prevista dal decreto legislativo 231 del 2001 che è una vera e propria sanzione tant'è vero che viene inserita tra le varie sanzioni previste da quel decreto legislativo e a questo vi sono delle confische atipiche stabilite e previste in varie disposizioni del dito penale complementare che è difficile inquadrare nel genus 240 o simili e che spesso hanno anche una natura di tipo amministrativa ma che presuppone comunque un reato per esempio la confisca come sanzione amministrativa accessoria dei reati stradali per così dire detto questo in linea assolutamente generale tutte queste ipotesi di confisca escluse quelle amministrative che non ci interessano possono essere suddivise secondo queste categorizzazioni possono essere divise in confische facoltative obbligatorie a seconda che sia richiesta da parte del giudice una valutazione sulla pericolosità della res così come secondo l'idea del legislatore del 1930 per cui la confisca obbligatoria è quella che deve essere disposta in ogni caso obbligatoriamente quindi senza questa valutazione poi la confisca che potrebbe definirsi oggettivamente condizionata o incondizionata a seconda che presupponga una sentenza di condanna definitiva oppure non richieda questo pronunciamento di responsabilità per cui nel primo caso si parlerà di confisca oggettivamente condizionata nel secondo caso incondizionata e poi infine la terza categorizzazione che si potrebbe tracciare in questo modo come confisca soggettivamente condizionata o incondizionata a seconda che sia precluso o meno da diritti di terzi in diverse fattispecie in diverse figure di confisca noi troviamo la formula finale salvo che la cosa appartenga a persona estranea al reato ecco quando questa formula sussiste allora la confisca è soggettivamente condizionata perché trova un limite nei diritti di terzi sia pur vedremo non tutti i terzi e quando invece non manca questa dicitura e sono diversi casi in cui manca questa dicitura allora si trova a parlare di confisca soggettivamente incondizionata quindi dovrà essere disposta quando anche esistano diritti di terzi estranea al reato allora detto questo in linea estremamente generale vediamo la legge 22 del 2022 la legge che ha introdotto un nuovo titolo nel codice penale ha recepito alcune delle fattispecie pregresse ne ha introdotte di nuove modificando in senso repressivo almeno apparentemente repressivo la disciplina del diritto penale e beni culturali quali confisca siano previste allora la prima sicuramente è menzionata nell'articolo 500 duodevicies comma 1 laddove si richiama l'articolo 511 undecies ossia l'esportazione dei beni di cose d'arte o di beni culturali in assenza di provvedimenti amministrativi di libera esportazione poi via la confisca delle cose che servirono furono destinate a commettere i delitti previsti dal titolo ottavo bis e delle cose che ne costituiscono il prodotto il profitto e il prezzo e questo è prevista questo tipo di confisca è prevista dall'articolo 518 duodevicies comma 2 infine no non infine ancora c'è la confisca per equivalente del denaro dei beni e delle altre utilità delle quali il reo abbia la disponibilità in relazione ai reati di quei articoli 518 duodevicies comma 2 praticamente è una confisca per equivalente nel caso in cui non sia possibile attingere il prodotto il profitto il prezzo del reato o le cose utilizzate per la commissione del reato e questa è prevista nell'articolo 518 duodevicies comma 3 ancora abbiamo un'ulteriore ipotesi di confisca nell'articolo 518 quaterdeces comma 2 che riguarda la confisca degli esemplari d'arte contraffatti alterati o riprodotti i casi cosiddetto falso d'arte allora queste confische in alcuni casi riproducono ipotesi già previste in precedenza per esempio la confisca delle cose esportate o non fatte rientrare anche se con varianti invece la confisca di cui all'articolo 518 duodevicies comma 2 cioè le cose che servirono furono destinate a commettere il reato e le cose che costituiscono il prodotto il profitto e il prezzo non hanno un precedente nella legislazione dei beni culturali il loro precedente vero è rappresentato dall'articolo 240 del codice penale quindi si tratta di un'estensione un'applicazione specifica della confisca archetipica diciamo così inoltre e ancora lo stesso l'articolo 218 duodevicies comma 3 ossia la confisca per equivalente anch'essa richiama la confisca per equivalente prevista dal codice penale l'articolo 322 ter e altrove che quindi costituisce il modello la confisca degli esemplari contraffatti alterati o riprodotti quindi la confisca in materia di falso d'arte invece riproduce in modo praticamente identico la confisca già prevista dall'articolo 178 del codice beni culturali in precedenza dal testo unico dei beni culturali del 99 e ancora in precedenza dalla legge Pieraccini del 1971 con cui per la prima volta veniva legiferata la tematica dei falsi d'arti anche penalizzandola tuttavia e questo lo dico fin da adesso in questa materia non sono soltanto queste le confische previste anche se queste sono quelle che appaiono maggiormente agli occhi perché sono oggetto di disposizioni specifiche esiste la confisca cosiddetta degli illeciti amministrativi da reato perché la legge 22 del 2022 ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche anche per questa ipotesi di reato e quindi come tale è applicabile la confisca disciplinata dal decreto legislativo 231 del 2001 e infine vedremo come trovi ancora applicazione la confisca archetipica cioè la 240 codice penale in relazione a quelle fattispecie che fanno parte del diritto penale dei beni culturali e che non sono confluite nel codice penale tramite la legge 22 del 2022 sulla base di una legge sulla base di una scelta che sfugge e più nel senso che non si comprende per quale motivo alcune fattispecie sono rimaste nel codice beni culturali e altre invece siano state traslate nel codice penale però la volontà è stata questa il risultato è che per quelle fattispecie non potendosi applicare le nuove fattispecie le nuove figure di confisca si dovrà richiamare ancora il codice canale allora è inutile dire che la confisca ha come natura come obiettivo come effetto l'entrata nel patrimonio dello Stato di beni in precedenza di proprietà privata è uno dei modi attraverso il quale determinati oggetti passano dalla proprietà privata alla proprietà pubblica per via autoritativa e questo è indiscusso e questo assume una particolare rilevanza un particolare peso proprio nella nostra materia cioè la materia dei beni culturali perché molti dei beni di proprietà privata sono beni di rilevanza culturale sono beni di rilievo culturale artistico archeologico paleontologico eccetera eccetera quindi attraverso la confisca avviene formalmente il passaggio tra un patrimonio è un altro patrimonio però fin da adesso bisogna chiarire un dato che forse non so forse sarà sfuggito anche ai legislatori novellatori non lo so ossia il fatto che la confisca intanto ha un senso in quanto la cosa sia effettivamente di proprietà privata non ha senso invece parlare di una di confisca di un oggetto che è già a titolo originario di proprietà pubblica e con il riguardo ad alcune categorie di questi beni in particolare i beni prelevati dai fondali marini o dal sottosuolo ci troviamo dopo il 1909 quindi scavati o prelevati dopo il 1909 ovviamente fondali marini e sottosuolo nazionale la proprietà è già pubblica ipso iure per così dire cioè a titolo originario quindi confisca con riguardo a questi oggetti sembra un ossimoro oppure un assurdo giuridico è un dato che forse non lo so magari non è stato preso sufficientemente in considerazione a suo tempo il dato di fatto è che comunque le disposizioni che adesso velocemente analizzerò prevedono tutte la clausola di salvaguardia a favore dei terzi nel senso che si prevede sempre la solita dicituro salvo che la resta appartenga a persone estranea del reato tra cui rientra evidentemente anche la persona offesa la conseguenza è che con riguardo a questi specifici beni quindi beni archeologici in particolare scavati dopo il 1909 dal sottosuolo nazionale o dai fondali marini la confiscabilità è in via ipotetica in via astratta esclusa dovendosi procedere necessariamente alla restituzione aventi diritto che come si è detto è lo Stato la conseguenza quindi quale sarà? sarà che forse in contrasto con un intento propagandistico molti hanno censurato questa legge affermando che ha dei chiari evidenti significati simbolici e quindi ha anche un intento propagandistico barra politico contrariamente a questi intenti propagandistici la confisca in questa materia troverà degli spazi di applicazione alquanto ridotti proprio per l'incombenza per così dire della clausola di salvaguardia dei terzi tra cui rientra lo Stato che è la persona offesa maggiormente rilevante allora iniziando dalle tipologie di beni che sono confiscabili e possono essere confiscati richiamandomi in questo senso alla precedente conferenza del 12 ottobre quando si parlava dei beni archeologici incogniti o invisibili la prima evidenza rappresentata dai beni del patrimonio archeologico in toto incognito cioè di beni che nessuno sa neanche che esistano si tratta quindi di beni archeologici particolari ma non necessariamente è tutta una tipologia che sono ancora occultati all'interno del sottosuolo o nei fondali marini sono dei beni che dovranno essere rinvenuti o potrebbero essere rinvenuti e che al momento sono ignoti quindi ecco perché si parla di in toto incognito almeno secondo una terminologia che invento io adesso allora per questi beni che sono beni culturali in fieri oppure comunque insomma in pectore nonostante siano ignoti nonostante siano nel tutto sconosciuti anche essi tuttavia sono meritevoli di interesse alla parte della collettività perché l'ordinamento mediante una serie di disposizioni tende ad impedire che essi vengano rinvenuti vengono prelevati e quindi diventino oggetto di impossessamento da parte di privati in modo tale da essere sottratti alla fruizione al godimento collettivo e anche allo studio da parte degli archeologi di chi si interessa di queste cose allora la norma le norme sono diverse che pongono si pongono a tutela di questo interesse di questo bene giuridico una tra queste è stata introdotta proprio dalla legge 22 del 2022 ossia l'articolo 707 bis ossia l'essere colto in possesso di strumenti per i sondaggi dei terreni o apparecchiatura per la rilevazione dei metalli in aree archeologiche bene si tratta evidentemente di una condotta preparatoria rispetto allo scavo clandestino e che ha natura di contra di contravenzione bene nel caso in cui questi oggetti fossero effettivamente rinvenuti essi saranno sicuramente sequestrati a fini probatorie saranno soggetti di confisca saranno soggetti di confisca in quanto si tratta di oggetti finalizzati tali da servire oppure destinati a commettere reato quindi essenzio l'articolo 518 2 de vices comma 2 codice penale oppure alternativamente ai sensi dell'articolo 240 del codice penale però io penso che l'articolo 518 2 de vices comma 2 sia pertinente sia applicabile proprio perché esso fa riferimento a tutti i reati del titolo e quindi tra questi potrebbe essere incluso anche l'articolo 707 bis sostanzialmente se non formalmente il problema è che l'articolo 707 bis si trova non precisamente nel titolo 8 bis e quindi questo dovrebbe indurre ad escluderne l'applicabilità e quindi a richiamare la norma archetipica di cui è l'articolo 240 del codice penale lo stesso vale per quanto riguarda gli oggetti che sono rinvenuti casualmente e di cui manchi una denuncia di cui si è omessa la denuncia ciò che integra il reato di quell'articolo 175 del codice dei beni culturali che è sopravvissuto alla traslazione diciamo così allora anche in questo caso continuerà ad essere applicato l'articolo 240 del codice penale proprio perché la nuova norma il 518 2 de Vices ha un'applicazione limitata al titolo 8 bis quanto agli oggetti rinvenuti fortuitamente e che siano stati acquistati o ricettati quindi in forza di una riforma del 2001 essi costituiranno il corpo del reato di ricettazione che quindi ha come presupposto anche le contravvenzioni adesso e quindi in questo caso dovrà applicarsi per la confisca l'articolo 240 del codice penale sempre per lo stesso ragionamento cioè il fatto che l'articolo 518 4 il furto archeologico presuppone esclusivamente dei delitti e quindi già abbiamo visto come esistano dei presupposti per l'applicazione sopravvissuta per così dire dell'articolo 240 del codice penale per quanto attiene invece ai beni culturali incogniti prelevati dai fondali a sottosuolo nazionale in forza di ricerche effettive volute quindi oggetto di impossessamento non si tratta di oggetti rinvenuti casualmente in questo caso troverebbe applicazione in articolo 175 ecco nel caso in cui le ricerche siano volontarie e l'effetto della ricerca fosse appunto il rinvenimento di questi oggetti il fatto andrebbe qualificato ai sensi dell'articolo 518 quater e quindi questo determerebbe una applicazione 518 bis o quater per quanto riguarda la relativa ricettazione e quindi in questo caso sarebbe perfettamente applicabile la nuova norma in tema di confiscarsi ossia l'articolo 518 2 de vices comma 2 codice penale questo sia per quanto attiene alle cose che servirono furono destinate a commettere il reato sia per quanto attiene alle cose che costituiscono il prodotto il profitto o il prezzo del reato si fa riferimento con il prodotto all'oggetto materiale ciò che è stato rinvenuto il bene culturale il reperto archeologico per così dire il profitto dovrebbe intendersi ciò che consegue dalla vendita o dalla rivendita dell'oggetto il prezzo invece fa riferimento alla somma di denaro che viene erogata nel caso di trattative intermedio illecite allora questa norma in qualche modo richiama l'articolo 240 del codice penale però la richiama estendendolo in particolare perché fa riferimento come presupposto non soltanto la condanna ma anche il patteggiamento e quindi l'ambito il presupposto si estende inoltre e questo è il secondo dato interessante che deve essere preso in considerazione è che il 240 comma 1 che riguarda le cose che la confisca delle cose che servirono furono destinate a commettere il reato è una confisca facoltativa infatti ci dice il giudice può ordinare la confisca mentre invece nel caso di specie il termine utilizzato è sempre e quindi la confisca deve essere considerata come obbligatoria inoltre lo stesso vale anche per la confisca delle cose che costituiscono il prodotto il profitto o il prezzo del reato ora l'articolo 240 comma 1 comma 2 in precedenza era specificamente applicabile al furto d'arte ci sono molte sentenze in cui si riconosce come pacifica l'applicabilità di questa norma al furto d'arte e quindi anche la corrispondente ricettazione il furto d'arte intendo le disposizioni del codice beni culturali del testo unico dei beni culturali della legge del 39 cosiddetto bottai che sanzionavano questo tipo di condotte però lo ripeto per la seconda volta sperando di non ripetere altrove forse a fatica o difficilmente ci si è reso conto del contrasto logico esistente tra il concetto di confisca e il fatto che questi oggetti sono oggetti che appartengono già allo Stato appartengono allo Stato a titolo originario e dal 1909 e infatti in alcune sentenze anche se viene detto talvolta come obbeter dictum oppure viene detto in modo ipotetico si stabilisce sempre che non sussistano non sussista un diritto pregresso dello Stato ma lo Stato c'è da sempre dal momento stesso in cui l'oggetto è stato scavato è stato prelevato e quindi questo rende la confisca difficilmente pensabile difficilmente immaginabile con riguardo a questo tipo di oggetti nel senso che il giudice dovrà prendere atto del fatto che si tratta di beni appartenenti a persone strane al reato cioè lo Stato e quindi disporne la restituzione omettendo la confisca la confisca invece potrà mantenere un suo spazio di applicazione quindi potrà continuare a trovare esplicazione con i mezzi del reato con riferimento ai mezzi del reato in questo caso salvo sempre il limite rappresentato dall'esistenza di diritti a terzi ignali immagino per esempio che il tombarolo voglia procedere al trasporto di questi oggetti avvalendosi di mezzi noleggiati oppure utilizzando oggetti prestati da qualcun altro del tutto ignaro in questo caso nulla osterà alla restituzione dei veicoli come dei capannoni come degli strumenti ai terzi del tutto ignari e quindi ritornando al discorso della inconfiscabilità dei prodotti dell'impossessamento e della necessaria restituzione mi basterà di chiamare questa sentenza del 1974 pubblicata nel 1975 in cui si dice che a chiare lettere che la confisca che si pone come strumento di acquisto a titolo originario in favore dello Stato delle cose che ne sono oggetto non può essere disposta su cose di interesse storico e cui rinvonimento ne abbia già comportato l'acquisto in favore dello Stato in tale evenienza infatti vi sarebbe una incompatibilità logica e giuridica tra i due titoli non potendosi acquistare la proprietà della cosa già propria e questo principio è stato ribadito più recentemente si fa per dire nel 1978 sempre della Suprema Corte e un pochino più recentemente nel 2004 nella sentenza importante la 23294 imputato paleologo in cui appunto è stato ribadito che i beni legittimamente acquistati da un ente o una persona giuridica che si trovi già nel territorio nazionale non può essere soggetto a confisca perché lo Stato deve ottenere la restituzione del bene anche facendo ricorso ai suoi poteri di autarchia e di autotutela e quindi questo comporta come conseguenza che la confisca in questa materia specifica troverà degli ambiti di applicazione ridotti l'unica vera novità se così si può dire è rappresentata dalla importazione a questo settore il diritto penale dei beni culturali della confisca per equivalente tant'è vero appunto come ho detto l'articolo 518 duo dei vices comma 3 prevede la confisca del denaro dei beni e altre utilità delle quali il reo abbia la disponibilità anche per interposte persone per un valore corrispondente al profitto al prodotto del reato questo è diritto positivo però anche su questo qualcosa bisogna dire nel senso che questa norma contrasta in modo netto con la natura di questi beni che sono beni fuori commercio sono beni extra commercium e sono beni che il cui valore economico è per così cozza con il valore culturale intrinseco tali da renderli pezzi unici e pezzi non soggetti ad anziani a nessuna calta allogazione questo vale per i reperti archeologici isolati e tanto più per i reperti archeologici che costituiscono un compendio che rappresentano un valore per la scienza archeologica per la scienza storica incommensurabile e quindi in che modo può individuarsi il valore economico di un reperto archeologico che è una res extra commercium questo è un qualche cosa che personalmente a me sfugge e che forse la dice lunga su il pensiero nascosto che è sotteso a questa riforma e soprattutto agli autori di questa riforma dove anche altrove hanno fatto affiorare una certa ideologia mercantilistica tra l'altro in linea con lo zeitgeist dicono i tedeschi allora a questo punto ho tempo giusto allora a questo punto c'è da accennare alle varie vicende processuali che possono caratterizzare il processo allora l'ipotesi della confisca come ho detto prima la misura della confisca presuppone anche questa materia la condanna o il patteggiamento qui Deiuris in caso di archiviazione proscioglimento assoluzione per insufficienza del fatto ecco evidentemente in questi casi se l'archiviazione viene disposta per perché il fatto non sussiste nel senso che si tratta di oggetto non scavato dopo 1909 oppure perché si tratta di un oggetto che è stato conferito dallo Stato a titolo di premio a ritrovatore eccetera eccetera ecco in questi casi manca proprio la base minimale per immaginare la confisca che d'altra parte sarebbe esclusa dal chiaro tenore anche della norma che presuppone esclusivamente la condanna o il patteggiamento quindi su questo punto non c'è da aggiungere nulla non c'è neanche da precisare il fatto che non sussiste alcun diritto da parte dello Stato se si tratta di oggetti scavati prima del 1909 oppure se si tratta di oggetti che costituiscono premio per il ritrovatore benché possano avere un valore culturale notevole o elevato nonostante tutto la restituzione dovrà andare necessariamente al privato avente diritto in caso di assoluzione per difetto dell'elemento psicologico oppure con la formula per non aver commesso il fatto allora anche in questo caso per il chiaro tenore della nuova disposizione non potrà disporsi la confisca però bisogna comunque valutare l'appartenenza dei beni il giudice dovrà comunque con giudizio incidentale stabilire a chi debbano essere restituiti questi beni verosimilmente sequestrati nel corso delle indagini nel corso del procedimento e la restituzione dovrà essere a favore dell'avente diritto che essendo non essendo stata esclusa che essendo stata esclusa il lecito possesso da parte del privato tant'è vero che la formula è per difetto dell'elemento psicologico oppure per non aver commesso il fatto sarà l'unico destinatario alla restituzione stessa è sempre per lo stesso discorso detto prima ossia il fatto che tutti i reperti scavati dopo il 1909 nei sottosuolo ovvero nei fondali marini nazionali appartengono a titolo originario allo Stato e l'ipotesi di una restituzione a favore del privato in quanto terzo in buona fede troverà degli ostacoli oltre che nella legislazione che ho già detto anche in altre considerazioni ossia il fatto che persone strane a reato non è chiunque non abbia partecipato al processo oppure chi non sia concorrente nel reato persone strane a reato sulla base della giurisprudenza ormai consolidata della Corte Costituzionale mi ricordo in tema di contrabbando e anche in materia di beni culturali con riferimento alla vecchia legge Bottai è il soggetto che non soltanto non sia concorrente o che non abbia partecipato a attività connessa ma anche chiunque non abbia avuto qualsiasi illecito profitto dalla cosa quindi chiunque sia veramente totalmente straneo all'oggetto e poi il secondo profilo è rappresentato dal fatto che sempre per il ditto vivente intanto può rappresentarsi un titolo dall'acquisto di questi beni in quanto un titolo esista in quanto ci sia una causa giuridica che giustifichi l'acquisto e l'acquisto invece è escluso perché l'oggetto in questione che ripeto è un reperto archeologico scavato dopo il 1909 da fondali o da sottosuolo nazionale è una res extra commercium e quindi come tale l'acquisto è soltanto apparente non può dirsi mai perfezionato la conseguenza è che non potrà applicarsi nei confronti di tali soggetti la disciplina molto favorevole del codice civile a favore dei terzi acquirenti in buona fede di cui l'articolo 1153 o 1161 del codice civile stesso quindi si va a ribadire che i beni culturali di proprietà pubblica e quindi in particolare questi che ho menzionato prima in quanto assolutamente non commerciabili anche in caso di assoluzione andranno restituiti allo Stato in quanto unico proprietario arriviamo all'ipotesi purtroppo molto frequente del procedimento per decorso dei termini prescrizionali allora la vicenda della sorte di questi reperti di questi beni in caso di prescrizione del reato è una vicenda che accomuna tutti i casi di sequestri in qualunque processo almeno da 2013 in poi allorché la Corte di Cassazione con la sentenza Cordaro partendo da un esegesi del termine condanna affermò che anche nei casi in cui non vi sia stata una condanna definitiva tuttavia vi sia stato un accertamento incidentale equivalente a quello contenuto nella sentenza di condanna in presenza di questo presupposto potesse essere disposta una confisca in questo modo contrastando almeno apparentemente con la lettera della legge all'epoca limitata all'articolo 240 del Coggio Penale e questa stessa idea quindi l'ipotesi della confisca senza condanna definitiva fu ribadita sempre nello stesso anno nell'ipotesi della confisca per reato di lottizzazione abusiva se non che proprio in quell'anno la Corte Europea dei diritti dell'uomo con una sentenza varvara molto famosa e molto conosciuta affermava diversamente cioè affermava che la confisca non può essere qualificata alla stregua di misure di sicurezza ma deve essere considerata una sanzione penale come tutte le altre evidentemente i giudici a Strasburgo non hanno mai studiato il Coggio Penale non hanno mai studiato il diritto penale nostro non sanno neanche cosa vuol dire misura di sicurezza comunque le cose stanno in questo modo non riuscendo a concepire una figura diversa dalla pena ecco quindi qualificò per farla breve la confisca quale sanzione penale quindi pretesero che la confisca in quanto sanzione penale presupponesse un giudizio di condanna definitivo questo venne affermato sempre nell'ipotesi di la confisca urbanistica e tuttavia in seguito la Corte di Cassazione a sessioni unite questa volta parliamo di una sentenza del 2015 contrastava in qualche modo quello che veniva stabilito dalla Corte Europea di diritti dell'uomo in quanto riteneva che fosse sufficiente per l'applicazione della confisca in caso di prescrizione quantomeno un accertamento svolto di condanna svolto in contraddittori in almeno un grado di giudizio e questa soluzione giurisprudenziale poi è stata recepita dal legislatore con l'articolo 578 bis del codice di procedura penale introdotto nel 2018 stabilendo che appunto quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 bis e da altre disposizioni di legge il giudice di appello alla Corte di Cassazione nel dichiarare reato estinto per prescrizione o per amnistia decidono sull'impugnazione e i soli effetti della confisca previ accertamento della responsabilità dell'imputato quindi a leggere l'articolo 578 bis e la sezione unita del 2015 la confisca anche in questa materia può essere disposta quando anche non si sia pervenuti a una sentenza definitiva quindi si sia pervenuti a un esito di prescrizione purché sia stato pronunciata una sentenza di condanna in primo grado secondo modalità di pieno contraddittorio e non che qualcuno potrebbe cipire sì però l'articolo 578 bis fa riferimento all'articolo 240 bis e non all'articolo 240 e dunque potrebbe riguardare i soli casi di confisca per equivalente se non che di recente di recente parliamo di una sentenza a sezione unita del 2020 e successivamente a sentenze sempre della Cassazione a sezione semplice si è stabilito che l'articolo 578 bis si richiama la 240 bis ma richiama anche altre disposizioni di legge altre disposizioni di legge facendo riferimento quindi sia alla confisca alle confische di parte speciale alle confische del diritto penale complementare tra cui quello in materia di urbanistica in materia di dotizzazione ma anche all'articolo 240 cp nella forma archetipica la conseguenza e quindi si ragione in termini futuribili che l'articolo 578 bis trovi applicazione anche nel nuovo 502 de vices in quanto è pur sempre un'altra disposizione di legge la conseguenza quindi è che in caso di estinzione del reato per decorso dei termini prescrizionali alla luce di queste disposizioni sarà disposta la confisca purché sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa della responsabilità e sempre che non sussistano diritti di persone estranee al reato secondo le modalità che sono state dette fino a questo momento che cosa accade nei casi altrettanto frequenti se non anche più frequenti della archiviazione per prescrizione del reato ecco qui le cose cambiano perché il 578 bis e la sentenza di Sessioni Uniti presuppongono un giudizio quantomeno di primo grado in contraddittorio in pieno contraddittorio delle parti quindi l'archiviazione è escluso che possa giustificare una confisca anche per questo tipo di oggetti però resta sempre il fatto che non potendosi applicare la confisca comunque il giudice dovrà stabilire a chi il reperto l'oggetto debba essere restituito e quindi ritorneranno nuovamente in campo le norme del codice dei beni culturali e della legislazione speciale che inderoga agli ordinali diritti e all'ordinaria disciplina civilistica attribuisce i diritti agli acquirenti in buona fede posso ancora proseguire oppure va bene c'era da trattare ancora sulla confisca di beni lecitamente esportati ovvero non rientrati ma il tempo no non so perché bene non vorrei creare problemi po' perché alle 5 va bene allora abbiamo accennato prima l'esistenza di questo 502 dei vicies che dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate in articolo 518 un deces che hanno costituito l'oggetto del reato salvo che appartengono a persone strane al reato quindi si fa riferimento alle cose illicitamente esportate si tratta di beni culturali ma anche altre cose che abbiano un interesse artistico storico eccetera eccetera la particolarità di questo tipo di confisca rispetto a quella di cui abbiamo parlato fino adesso è che qui la locuzione diciamo così particolarmente interessante è l'espressione in ogni caso e quindi questo fa sì che la confisca in questione possa essere definita obbligatoria sicuramente oggettivamente incondizionata quindi tali da non presupporre la condanna o il patteggiamento come l'altra di cui abbiamo detto e soggettivamente condizionata perché anche qui restano i diritti dei terzi estranei la conseguenza è che quindi questo tipo di confisca potrà essere disposta sicuramente anche nel caso di prescrizione del reato e anche nel caso di assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo per non aver commesso il fatto non può essere stesa invece in modo tale da poter ricomprendere anche la soluzione per insussistenza del fatto perché la soluzione per insuffistenza del fatto in questa vicenda non fa altro che riferirsi all'ipotesi in cui l'oggetto sia stato lecitamente esportato quindi mancherà proprio l'oggetto materiale del reato mancherà proprio il presupposto oggettivo del reato stesso nel caso in cui vi sia stato un attestato di libera circolazione e quindi in qualche modo poi sia stato questo bene sia stato sequestrato sia soggetto a sequestro dovrà essere restituito a chi abbia esportato il bene ottenendo l'attestato di libera circolazione quindi la locuzione deve essere intesa anche in questo caso come grano salis per quanto attiene alla locuzione persone strane al reato invece in tutte le altre ipotesi condanna parteggiamento e altre ipotesi di esportazione vale quello che si è detto in precedenza e vale tanto più quando ci si trovi di fronte a reperti archeologici reperti archeologici ovviamente scavati ancora una volta prelevati dopo il 1909 sempre dal territorio nazionale anche in qui e lo dico per la terza volta trattandosi di beni di proprietà a titolo originario dello Stato i diritti dei terzi saranno diritti dello Stato proprietario a titolo originario quindi l'oggetto in questo caso non potrà essere confiscato ma dovrà essere restituito allo Stato allora il punto interessante che forse non è stato preso sufficientemente in considerazione è rappresentato dalla combinazione tra questa norma e l'ipotesi del falso ideologico che conduca all'emissione di un attestato di esportazione esistente ma ideologicamente falso anche la volta scorsa nella precedente conferenza avevo fatto riferimento all'ipotesi in cui qualcuno producendo documentazione falsa inducendo in errore i pubblici funzionari addetti a questo tipo di attività ottengono un attestato di esportazione che questo attestato quindi esportino il bene in seguito si scopre invece che la documentazione era falsa che il bene aveva un valore ben diverso rispetto a quello prospettato che l'origine era ben altra rispetto a quella che era stata indicata che l'epoca era diversa da quella che era stata pure indicata allora in questo caso in precedenza la fattispecie applicabile era quella del falso ideologico per induzione articolo 48 479 il che se fosse ancora così se le cose stesse ancora così comporterebbe l'inapplicabilità della disciplina dell'articolo 518 duode vices perché essa presuppone i delitti del titolo ottavo bis e in particolare questo 518 undeces e quindi si dovrebbe ritornare all'articolo 240 del codice penale però bisogna considerare il fatto che l'articolo 518 undeces non riguarda soltanto l'ipotesi dell'illecita esportazione questo è un dato che forse è sfuggito a molti dovrebbe essere valorizzato un po' di più forse si potrebbe pensare poi in seguito a un approfondimento in questa materia perché oltre all'ipotesi del falso oltre all'ipotesi dell'esportazione illecita o mancato rientro c'è anche l'ipotesi delle dichiarazioni mendaci al fine di ottenere l'autorizzazione all'uscita che è proprio l'attività prodromica al falso ideologico per induzione allora qualcuno potrebbe sostenere che le due norme possono combinarsi possono concorrere nel senso che il falso resta falso se poi si concretizza nell'uscita verrebbe perpetrato anche il falso per induzione io ho i miei dubbi perché in realtà poi il falso per induzione non è altro che la concretizzazione della condotta prodromica rappresentato dal 518 un deces si rischierebbe di punire qualcuno per lo stessa condotta due volte si tratterebbe sostanza una specie di post factum non punibile qual è la conseguenza la conseguenza è che anche rispetto a questi falsi questi attestati di esportazione ideologicamente falsi andrebbe applicato l'articolo 518 un deces e quindi per conseguenza la nuova figura di confisca in ogni caso prevista l'articolo 518 duode vices concludo qua visto che poi tra l'altro in materia di confisca di oggetti d'arte falsi sono stati già fatti tanti incontri quindi non c'è nulla da aggiungere in particolare quindi ringrazio e concludo in questo modo allora prima di fare intervenire con la relazione il professor Salamone volevo passare comunque la parola per fare due domande che mi ha chiesto voleva fare al dottor Cipolli si proprio sull'intervento del consigliere proprio sull'ultimo diciamo riferimento al cosiddetto mendaggio all'esportazione diciamo mi pongo da operatore del settore la seguente domanda si parla di induzione in errore quando la condotta ha una idoneità quantomeno astratta ad indurre in errore il pubblico ufficiale ma in un sistema quale quello attuale in cui l'opera viene visionata da una commissione territoriale composta da tre esperti del ministero l'opera che quindi diciamo quantomeno in teoria dovrebbero saperne più dell'addetto e può essere anche il sottoscritto che fa l'avvocato che porta all'esportazione l'opera nel momento in cui l'opera non ci si basa sulla dichiarazione del privato ma viene visionata direttamente il ministero ha 40 giorni di tempo per fare tutti gli approfondimenti e viene chiesto un ulteriore parere poi alla direzione generale a livello centrale mi chiedo come un'eventuale dichiarazione mendace che poi anche bisogna capire che si intende per mendace perché purtroppo sappiamo ce lo diceva il dottor Piva prima che in tema della storia e l'arte le opere non nascono con il cartellino cioè non siamo tutti quanti l'opera è di Luca Giordano scuola spagnola anonima è anche una questione di opinioni magari un'opera nasce come di tizio poi nel corso degli anni ha due o tre attribuzioni quindi mi chiedo quale possa essere la idoneità ad indurre in errore fatte tutte queste premesse in cui chi deve valutare l'opera ne sa molto più di me la vede fisicamente quindi non si basa sulla mia dichiarazione e poi anche mi pongo una riflessione sul testo dell'articolo 68 del codice beni culturali che sostanzialmente mi impone solo di dichiarare il valore del bene quindi mi chiedevo come potesse diciamo assumersi una rilevanza penale di fronte a questa condotta in questa situazione diciamo fattuale in cui a mio personale avviso diciamo è scarsa è impossibile l'idoneità ad indurre in errore un funzionario affogato canale facciamo un convegno su questo perché questo come vedete è un argomento particolarmente interessante sì allora io rispondo dicendo che come magistrato appartenente alla tutela patrimonio culturale per dieci anni questo dubbio me lo sono posto ma l'ho risolto perché mi sono trovato davanti a situazioni di questo tipo si tratta di un processo che io ereditai dal compianto Paolo Giorgio Ferri e quindi ho dovuto recuperare diciamo così in zona Cesarini e tuttavia mi ha convinto perché che cosa era successo e non è un'ipotesi isolata cioè nel senso che in quel processo si verificò in più occasioni quello che sto adesso narrando allora in astratto questi archeologi questi storici dell'arte dovrebbero sapere la storia dell'arte dai tempi della paleontologia fino a Mark Rochko diciamo così e invece non è così invece non è così nel senso che le commissioni le commissioni che decidono sulla l'attestazione della libera esportabilità sono composte in forma eterogenea e spesso sono predisposte in modo tale da determinare dei gravi buchi di tipo conoscitivo mi spiego meglio nel senso che per problematiche ministeriali interne che io ignoro è difficile che queste commissioni siano composte necessariamente da esperti sempre da esperti delle opere che di volta in volta vengono predisposte e offerte in visione e all'esame ci troveremo di fronte a delle commissioni di archeologi ci troveremo di fronte a commissioni storici del 600 ci troveremo di fronte a storici dell'arte del 900 ci troveremo di fronte a commissioni miste allora già qui si comincia a comprendere che se quel giorno in quella commissione viene presentata un'opera d'arte diciamo un'opera archeologica un reperto archeologico e la commissione è una commissione di storici d'arte medievale o di arte moderna o di arte contemporanea o di arte del 600 per quanto ne sappiano sicuramente più di me non so se anche di lei tuttavia forse potrebbe crearsi la condizione per quel vulnus conoscitivo tali da determinare quella famosa errata conoscenza e quindi quel determinato errore questa ipotesi che già appunto fu formulata all'epoca poi è stata confermata in questo processo perché? perché è stato constatato che le opere non casualmente ma volutamente erano indirizzate a delle commissioni incompetenti non nel senso cattivo del termine cioè però diciamo consigliere diciamo a prescindere poi da quel caso non credo che non conosco nella pratica non è che io diciamo che l'utente presenta la pratica quel giorno quindi mi dice so chi c'è in commissione presento la pratica quel giorno l'utente presenta la pratica dopodiché è l'ufficio esportazione che convoca e che laddove quindi non è non sono io a scegliere la commissione è l'ufficio che convoca e quindi dovrebbe essere l'ufficio ad organizzare diciamo ed inoltre l'ufficio ha la possibilità laddove giustamente si presenta un'opera di un artista non conosciuto di chiedere un parere esterno quindi diciamo in pratica nel momento in cui l'amministrazione ha la possibilità di selezionare delle commissioni perché non deve a domanda rispondere quindi a tempo ha la possibilità anche di chiedere un parere all'esterno laddove abbia un deficit diciamo di competenza cognitivo laddove poi ha la possibilità inoltre di chiedere un parere consultivo alla direzione generale ecco diciamo mi pongo il tema di come possa salvo il caso in cui ci siano delle intercettazioni in cui già quello diciamo è un caso però diciamo è diverso dal caso quindi diciamo era questo uno spunto sì no ma lo spunto è giusto solo che purtroppo la realtà è più fantasiosa della fantasia nel senso che capita proprio questo capita che purtroppo o volutamente o non volutamente le commissioni siano incompetenti nel senso buono del termine dopodiché avanti un altro avanti un altro avanti un altro non è che si mettono a guardare di così beh questa cosa alla fine mi sembra di scarso interesse via così funziona nella realtà nella teoria non è così nella teoria ci dovrebbe essere la valutazione perché ne deve rispondere il privato cioè la mia domanda è perché deve diciamo penalmente rispondere il privato di questa diciamo negligenza che si può o mancanza di conoscenza anche io diciamo dico sinceramente sono competenti funzionare il discorso e che magari hanno tante cose da dover guardare diciamo quello è il discorso e poi l'altro spunto di riflessione no ma diciamo sì no assolutamente e l'altra no certo e l'altra mia diciamo osservazione era posto diciamo uscendo dal tema dei reperti archeologici quindi beni di cui abbiamo conosciamo la diciamo non ci sono problematiche sulla titolarità di questi beni nel caso in cui dovesse esserci una estinzione per intervenuta prescrizione già in corso delle indagini in quel caso mi sembra di capire che non sia possibile ad arrivare ad una confisca e allo stesso tempo non sia neanche possibile neanche operare un sequestro finalizzato alla confisca parliamo della confisca di oggetti illecitamente esportati o di oggetti provento di possessamento di beni culturali no oggetto ad esempio nel corso di un'indagine diciamo viene ad esempio non viene appurato cioè uno spunto investigativo tale per cui un determinato bene è uscito dal territorio nazionale in maniera illecita quindi esportazione illecita dieci anni fa reato quindi pacificamente diciamo prescritto ecco mi chiedevo in questo caso ritiene che si possa arrivare ad un confisca o meglio ad un sequestro finalizzato poi alla confisca partendo dal presupposto che già il reato è pacificamente prescritto cioè il reato quanto meno nel suo elemento oggettivo ecco guardate il discorso è che questa tematica dell'articolo 502 de vices comma 1 che richiama l'articolo 174 del codice beniculturati parla chiaro dice il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518 un deces cioè queste esportate che hanno costituito l'oggetto del reato salvo che queste appartengano a una persona estranea poi si aggiunge in caso di estinzione del reato e questo è il caso il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale quindi in quel caso si dovrà fare una valutazione incidentale sulla sussistenza o meno del reato fondata però non in contraddittorio diciamo secondo le formule del giudizio di esecuzione della fase di esecuzione l'articolo 666 del codice di procedura penale fa riferimento a questo e questo comporta che la risposta alla domanda sarà sì dipende nel senso che anche in caso di prescrizione del reato anche in caso di prescrizione dichiarata con archiviazione non con sentenza in ipotesi potrebbe essere disposta alla confiscazione del reato però sono sempre salvi i diritti della persona estranea del reato che dovranno essere valutati in caso di estinzione del reato secondo la formula secondo la procedura di cui l'articolo 666 del codice di procedura penale quindi in esecuzione ma qui è molto chiaro su questo punto la norma non inventa nulla riproduce praticamente in modo identico l'articolo 666 del codice di procedura penale aggiungo inoltre una cosa interessante che forse viene sottovalutata ma non è neanche questa una novità la confisca a luogo in conformità alle norme della legge educanale relativa alle cose oggetto di contrabbando e come lei sa le cose oggetto di contrabbando sono soggette a confisca oggettivamente soggettivamente incondizionate incondizionate del precedente del comitato esatto è la stessa conclusione però il procedimento penale andrà archiviato si vedrà poi in sede di esecuzione perfetto grazie allora comunque lascio la parola sempre al professor Francesco Emanuele Salamone che ci illustra invece le criticità e i problemi operativi di carattere pratico legati all'applicazione della legge 22 del 2022 grazie mille sì in parte diciamo già ne abbiamo ne abbiamo già discussi in maniera diciamo concreta quelli che possono essere alcuni problemi di carattere operativi innanzitutto ringrazio appunto l'ordine degli avvocati gli organizzatori di questa giornata di studi gli altri relatori e anche i colleghi che ci stanno ascoltando prendo le mosse proprio dal titolo dell'intervento assegnato lo dico subito la visione la mia visione rispetto a questa riforma è critica non tanto con riferimento al fatto che fosse necessario rimettere mani alla materia perché effettivamente era necessario dare una maggiore dignità ai reati contro il patrimonio culturale inserendoli all'interno del codice penale era opportuno e necessario allinarsi alla normativa pattizia internazionale effettivamente le pene per molti di questi reati erano pene troppo basse e tenuto conto che questi reati sono reati il cui accertamento è molte volte assai distante nel tempo rispetto alla loro consumazione si rischiava sostanzialmente di operare rispetto a fatti specie di reato già ampiamente prescritte però è critica con riferimento esclusivamente al fatto che era una bella opportunità per risolvere per dare una risposta univoca a determinate problematiche e per cercare di risolvere dei problemi a cui invece sono state date delle risposte a mio avviso non sufficienti quando si parla di diritto penale quindi quando si parla di tassatività di determinatezza del precetto penale sicuramente il primo problema è quello legato alla mancanza di definizione di bene culturale noi ci troviamo di fronte a circa 18 articoli in cui diciamo li ho contati per 42 volte per 42 volte si parla di bene culturale o beni culturali 39 volte al prurale 3 volte al singolare e nonostante si parli per 42 volte di bene culturale poi non si dice che cos'è questo bene culturale e aggiungo che in questo caso la situazione è aggravata dal fatto che fra virgolette il legislatore aveva avuto delle avvisaglie da parte della giurisprudenza perché la giurisprudenza negli anni era intervenuta attraverso interventi ortopedici creando la cosiddetta categoria del patrimonio culturale reale dicendo è bene culturale non solo ciò che ha la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante quindi la definizione amministrativa di bene culturale ma anche ciò che abbia un interesse culturale intrinseco ed oggettivo quindi aveva però era un intervento ortopedico che sostanzialmente apriva le porte a quello che io diciamo chiamo relativismo giudiziario perché sostanzialmente nelle aule tutti i giorni non è che si valuta il cratere di Ofronio o si valutano dei dipinti di Guidoreni quindi delle cose che immediatamente sono intese dalla collettività come beni culturali molti processi vengono fatte per delle anfore vengono fatte per delle monete vengono fatte per dei beni rispetto ai quali la valutazione di culturalità dipende sostanzialmente dal consulente nominato al pubblico ministero dal perito nominato al giudice dallo stesso giudice quindi questo vuol dire che per lo stesso reperto in due tribunali diversi potrei essere condannato o assolto per uno stesso dipinto potrei essere condannato assolto perché la valutazione di culturalità cambia e quindi per un tribunale essendo bene culturale quella condotta è penalmente rilevante se invece non è un bene culturale quella condotta è penalmente rilevante quindi questa poteva essere una non poteva essere doveva a mio avviso essere un'opportunità per definire il concetto di bene culturale perché a mio avviso è inutile inasprire le pene se poi non vai a definire il perimetro di ciò che è penalmente rilevante e ciò che non è penalmente rilevante e quindi seppur correttamente il consigliere Natalini ricordava la definizione di Nicosia è una definizione che mi sembra di capire che è evidentemente troppo generica e che cozzo un po' con i principi di tassatività che invece sono tipici del diritto penale cioè è diritto anche del reo sapere ciò che è reato e ciò che non è reato cioè questo è previsto sostanzialmente dall'articolo 1 del codice penale quindi questo è il primo secondo me la prima grande criticità la cuna che determinerà poi in fondo delle difficoltà operative nell'applicarla questa legge quindi era un tema su cui si poteva fare di più l'altro tema è quello a mio avviso eccessivo aumento delle pene soprattutto in una situazione di indeterminatezza del concetto di bene culturale e tenuto anche conto di quella che è una visione d'insieme ad esempio il riciclaggio di un bene culturale con la nuova disciplina è punito con la reclusione sino a 14 anni cioè quasi il triplo rispetto ad un omicidio colposo ora quando parliamo di bene culturale proprio per quello che ho detto prima non parliamo soltanto dei capolavori per cui si dice sai un capolavoro parliamo anche di beni che possono avere un interesse diciamo minore anche un interesse diciamo non condiviso da tutti inoltre aggiungo che l'eccessivo aumento delle pene rischia di intasare su reati la cui struttura è molto complicata rischia di intasare la macchina giudiziale perché sbarra la strada a ridi deflattivi cioè vengono resi diciamo si perde la scelta di un difensore di fronte a reati con una pena così alta di aderire ad un rito deflattivo pari a zero cioè perdo qualunque appeal della possibilità di aderire ad un rito deflattivo di fronte a questi reati poi anche a mio avviso diciamo un'altra critica dal punto di vista operativo è la previsione veniva accennato prima alla possibilità di perseguire questi reati anche laddove commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale e qua mi richiamo anche ad un parere reso dall'associazione nazionale magistrati che proprio su questo punto in sede di lavori preparatori sottolineo che è abbastanza evanescente e non espressamente coincidente con la definizione fornita dall'articolo 10 quindi sostanzialmente già il legislatore in fase dei lavori preparatori l'associazione nazionale magistrati aveva sottolineato che si trattava di un concetto indefinito concetto indefinito che a maggior ragione in un'ipotesi eccezionale cioè di reato commesso all'estero rischia di determinare delle situazioni di sovrapposizione tra il processo italiano e l'intervento dell'autorità straniera sul falso iscrittura privata 518 octies questa è stata tutto sommato una scelta obbligata da nicosia che però è una scelta che va nella direzione opposta a quella dell'abrogazione del reato del 485 codice penale cioè da un lato abbiamo abrogato il falso iscrittura privata dall'altro lato si fa rientrare dalla finestrella quello che era stato fatto uscire dalla porta dal legislatore italiano ma questo diciamo è imposto dalla convenzione di nicosia poi sul problema della confisca per equivalente è un problema a mio avviso non da poco per due ragioni in primis perché la norma parla di cose indicate all'articolo 518 undeces e quindi sembrerebbe valere per tutti i reati non solo per l'esportazione illecita quindi si amplia la portata ma il problema a mio avviso della confisca per equivalente è a quale valore di partenza bisognerà fare riferimento per individuare il valore equivalente da sottoporre a sequestro perché perché nel caso di beni che hanno un valore stabile o già in partenza abbiamo un valore oggettivo è facile ma nel mondo dell'arte lo stesso bene nel corso degli anni può totalmente variare il proprio valore ad esempio in caso di studi che dimostrano che quel dipinto non è stato eseguito dalla bottega di Tintoretto ma da Tintoretto in persona stesso dipinto oppure nel caso in cui quel dipinto si scopre che proveniva da una determinata collezione quindi in questo caso il dubbio che diciamo a mio avviso rimane aperto questo valore di partenza a cui bisogna fare riferimento ai fini della confisca per equivalente è il valore al momento della condotta al momento dell'accertamento del reato al momento della condanna definitiva e poi chi stabilirà il valore equivalente secondo quali parametri qual è il ruolo che il soggetto imputato potrà avere all'interno di questa terminazione sono tutti aspetti pratici che poi vanno che quando diciamo si parla di opere d'arte la stessa cosa può valere mille euro come ne può valere diecimila è veramente molto 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 volatile il valore delle opere d'arte e poi il reato di importazione illecita qui si apre diciamo a mio avviso un vulnus diciamo un pericolo un grande pericolo per gli operatori del settore perché sostanzialmente il reato di importazione illecita punisce colui il quale importi dei beni che erano sostanzialmente usciti dallo stato di provenienza senza l'autorizzazione ivi prevista qui a mio avviso si pone un tema di onere probatorio cioè deve essere come io credo deve essere l'ufficio di procura a provare che quel bene sia uscito illecitamente dallo stato di provenienza oltre poi alla consapevolezza dell'imputato cioè io parlo soltanto della parte dell'elemento oggettivo di reato o deve essere l'imputato a fornire la prova della lecita provenienza di quel bene dal paese di origine perché se si dovesse aderire come purtroppo alcune circolari ministeriali sembrano portare in questa direzione al fatto che deve essere il privato approvare che quel reperto archeologico sia uscito lecitamente dal paese di provenienza si aprono delle problematiche di concrete enormi in primis vai ad individuare il paese di provenienza ad esempio un pezzo nordafricano o un pezzo proveniente dall'area orientale qual è il paese di provenienza? 2 si impone sostanzialmente ad qualunque acquirente di un bene artistico di conoscere tutte le legislazioni dei beni culturali di tutti i paesi del mondo perché a quel punto devo capire da quando ad esempio in Egitto va se c'è o non c'è da quando c'è una legge in materia di tutela del patrimonio culturale e poi si pone anche un tema di esigibilità della condotta cioè nel momento in cui io acquisto in asta un determinato bene circuito diciamo assolutamente lecito e poi per farlo entrare in Italia devo dimostrare come quel bene di provenienza egizia sia uscito dall'Egitto diventa a mio avviso un qualcosa di inesigibile quindi secondo me bisognerà chiarire come si intende interpretare il reato dell'importazione illecita perché se lo si interpreta nel senso che deve essere il privato a fornire la prova della lecita provenienza sostanzialmente lo si priva totalmente del diritto di difesa un po' come diciamo seppur con le dovute conseguenze l'onere probatori in tema di reperti archeologici dello scavo del 1909 cioè io diciamo sfido cioè è difficilissimo trovare qualcuno che riesca a tracciare ante 1909 il percorso di quel bene quindi sostanzialmente guardi avevo concluso quindi avevamo proprio il tempo quindi sostanzialmente le tematiche sul terreno erano tante e questa poteva essere diciamo un'occasione per poterle risolvere è stato un peccato è stata una grande incompiuta ora toccherà nuovamente alla giurisprudenza cercare di fare degli interventi ortopedici sperando che questi interventi ortopedici diciamo non facciano diciamo essendo una sperimentazione sostanzialmente poi non ci siano troppe vittime che poi sono gli operatori del settore in buona fede grazie per l'attenzione voleva fare qualche domanda o chiudiamo dottor Natalini voleva fare una domanda voleva fare una domanda rapida o cosa facciamo in tempo la faccio al collega per sapere se l'interpretazione che ho dato io nella relazione sulla confisca che poi è l'argomento che accennava anche il professore è un'interpretazione diciamo si condivide l'interpretazione è un tema che potrebbe sembrare abbastanza tecnico ma in realtà determina l'ambito di applicazione della confisca in un senso limitato ad un reato oppure a tutti i reati compresi nel nuovo titolo cioè laddove si fa riferimento ora stavo avevo chiuso ecco avevo chiuso tutto e invece mi ha preso allo sprovvisto io eccola qua allora il tema è questo il 518 undecis comma 1 il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate nel 518 undecis se andiamo a vedere il 518 undecis le cose sono beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico eccetera che hanno costituito oggetto del reato salvo che appartengono a persone stranea allora io ho visto che una dottrina mi ha criticato su questa mia interpretazione che però a me sembrava lineare ti chiedo diciamo e vi chiedo se è condivisibile io dicevo nella relazione che la tecnica legislativa è abbastanza criticabile perché questa confisca sembra operare un richiamo per quanto riguarda l'oggetto delle cose della confisca che io ho chiamato quad res cioè al solo fine individuare l'oggetto delle cose su cui ricade la misura ablatoria viene richiamato il 518 undecis ma non che viene applicata la confisca nelle ipotesi del 518 undecis ma viene applicata la confisca delle cose indicate nel 518 undecis allora la tecnica è diciamo forse scorretta forse il legislatore voleva dire che si applica la confisca nell'ipotesi del 518 undecis certo è che ha scritto che si applica la confisca delle cose indicate nel 511 ma non nell'ipotesi del 511 il che aprirebbe la strada ad una confisca dell'oggetto del reato su tutte le ipotesi se si accede a questa interpretazione che davo a tutte le ipotesi per i delitti compresi nell'8 bis come se avesse scritto anche perché il che è pure giustificato dalla topografia della norma perché fa riferimento a confisca come se fosse un'ipotesi comune a tutti i reati ecco volevo chiedere al collega se condivide questa lettura estensiva che probabilmente va oltre a quello che voleva il legislatore cioè credo che il legislatore volesse ipotizzare la confisca soltanto nell'ipotesi trapiantando diciamo quella del codice speciale nel codice penale nell'ipotesi diciamo del codice speciale però probabilmente per come l'è realizzata potrebbe dare la stura ad applicare la confisca su tutte quelle cose a prescindere dal titolo di reato sembra una domanda tecnica ma in realtà dà la possibilità di applicare la confisca a tutto che aprirebbe un fronte enorme anche perché l'oggetto del reato è l'oggetto su cui ricade allora io penso che l'unico senso logico e anche giuridico da dare è quello di interpretare questa norma anche sulla base della disposizione da cui proviene che dovrebbe essere l'articolo 174 del codice beni culturali e praticamente è identica l'articolo 174 del codice beni culturali salvo che nella parte in cui l'articolo 174 con maggiore tassatività elencava alcune tipologie di beni peculiari soggetti esportazioni secondo particolari disposizioni mentre invece qui in modo più generico è forse uno dei pochi casi in cui si richiama il codice beni culturali si dice semplicemente le cose che hanno costituito l'oggetto del reato giudici in ogni caso con fisica delle cose indicate nell'articolo 5181 che hanno costituito l'oggetto del reato e l'articolo 5181 richiama le cose di interesse artistico illicitamente esportate le altre cose pure illicitamente esportate oggetto di specifiche disposizioni tra l'altro viene richiamata anche la normativa successiva viene richiamata anche la normativa relativa al richiamo al contrabbando che pure si trovava nell'articolo 174 l'unica novità è richiamo all'articolo 666 ma se non altro forse perché all'epoca adesso non mi ricordo se anche nel 174 era previsto quindi penso che sulla base di queste interpretazioni di tipo storico noi dobbiamo rifarci a quella che era la portata all'oggetto di questo tipo particolare di confisca nell'ipotesi di esportazione illecita o mancato rientro di beni culturali cioè il presupposto è che ci sia un processo per questo tipo di beni che questi beni siano stati illecitamente esportati o non siano stati richiamati e che presentino le caratteristiche che il codice beni culturali elencava allora e indirettamente elenca anche adesso quindi si deve trattare di costo di interesse artistico eccetera eccetera beni culturali così via e anche beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela penso che altri tipi di interpretazioni estensive siano incongrui perché è evidente che è stato prelevato un pezzo del codice beni culturali è spostato di peso in questa disposizione unitaria e anche eccessivamente onnicomprensiva aggiungo soltanto un dato e questo forse dà la prova ulteriore di quello che sto dicendo mentre nella parte successiva si parla di confisca tra l'altro di costi che costituiscono il prodotto e il profitto del prezzo del reato quindi la terminologia tecnica dell'articolo 240 del codice penale qui invece si fa riferimento a oggetto del reato oggetto materiale del reato che non è un termine che noi ritroviamo nel codice penale noi troviamo sempre profitto prodotto prezzo provento cose del genere perché l'articolo 174 del codice beni culturali incongruamente impropriamente parlava di oggetto del reato quindi io penso che l'interpretazione di oggi si deve fondare sull'interpretazione di ieri grazie al relatore grazie ai colleghi che ci hanno seguito da casa e buona serata a tutti grazie 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 a tutti